Buonasera a tutti. Ci siamo, avrebbe da dire, in questa situazione, tutti voi sapete la lunga vicenda che ha caratterizzato l'organizzazione di questo convegno. Prima di iniziare, tuttavia, vorrei dare la parola al direttore del Dipartimento, il professor Giacomo Manzoli, per un saluto. Prego, Giacomo. A maggior ragione ringrazio il curatore, colui che ha ideato l'iniziativa, il professor Cammarano, che peraltro è anche vice direttore del Dipartimento delle Arti, così come tutto il comitato scientifico che ha curato il convegno, costituito da colleghe e colleghi del nostro Dipartimento, così come del DISCI, che credo abbia lavorato in maniera egregia, nonostante le difficoltà oggettive legate alla pandemia, ma sono veramente felice di vedere tante persone qui, anche in presenza, non solamente, come sappiamo, siamo anche in streaming, ma anche in presenza, è importante che le cose ripartano. Anche in considerazione della natura e dell'argomento di questo convegno, Sguardi dal mondo e l'Italia contemporanea nella storiografia internazionale, il nostro è un Dipartimento delle Arti, come dice la parola stessa, che si è allargato e allargato le sue prospettive in maniera sostanziale negli ultimi anni, includendo una serie di discipline, da quelle storiche a quelle sociologiche, le scienze politiche e molte altre, nella convinzione che non si possano studiare le arti se non ci si preoccupa di quello che c'è attorno, del contesto dal quale provengono e al quale sono destinate. Così avverrà in questi giorni con storici colleghi e colleghi che osservano lo sviluppo della nazione dal punto di vista istituzionale, ma anche e soprattutto dal punto di vista culturale, cultura alta, cultura popolare, cultura dei media, cultura materiale e quant'altro, dalla prospettiva di chi spesso e volentieri non è nato in Italia e non lavora in Italia, quindi osserva la realtà italiana con una sensibilità differente da coloro che ci sono talvolta troppo profondamente invischiati e rivolgendosi fra l'altro anche ad un audience che non conosce così bene l'Italia come coloro ai quali siamo soliti rivolgerci o almeno coloro che supponiamo conoscono bene o così bene l'Italia qualunque cosa questo voglia dire. Nella mia esperienza, io sono uno storico sui generis perché sono uno storico del cinema, ma nella mia esperienza il confronto con tante colleghe e colleghi stranieri attraverso per esempio l'AIS, American Association for Italian Studies, la cui annual conference si terrà proprio qui a Bologna a fine maggio, a testimonianza appunto di questa vocazione internazionale, dicevo il confronto è stato prezioso perché mi ha costretto a rivedere delle opinioni o delle posizioni che avevo naturalizzato e che invece non sono naturali per niente e ovviamente anche la lettura dei libri e dei saggi di tanti colleghi, alcuni dei quali qui presenti, mi ha veramente aiutato a capire molto meglio il mio paese e me stesso di quanto avrei potuto fare mantenendo una prospettiva rigidamente interna e quindi chiusa. Mi fermo qui, non rubo altro tempo, sono veramente contento e cercherò di seguire i lavori per quanto possibile. Grazie ancora a Fulvio Cammarano e a tutti voi. Grazie Giacomo perché noi non ci siamo sentiti prima ma molti dei temi, degli spunti che ha appena fornito fanno parte della dinamica costitutiva di questo incontro. Io lo dicevo ci abbiamo fatta perché questo convegno era stato progettato già dal 2018, ci sono cinque anni doveva tenersi nel 2020 come tutti voi sapete ovviamente sappiamo bene le ragioni per cui abbiamo rinviato l'incontro. Devo ringraziare molte persone per aver tenuto duro, per aver pensato che il convegno andava fatto in presenza perché è un'occasione per una comunità di incontrarsi, di riconoscersi, di scambiare opinioni, progetti eccetera. Dunque mantenere l'idea di farlo in presenza e non andare per le vie brevi con un mega convegno online è un motivo di vanto per il comitato scientifico e per la segreteria organizzativa. Io vorrei partire proprio per la complessa gestazione di questo convegno con i ringraziamenti. Il comitato scientifico che è composto da Salvatore Botta, Riccardo Brizzi, Paolo Capuzzo, Stefano Cavazza, Patrizia Dogliani e Veronica Innocenti con cui appunto abbiamo avuto discussioni, abbiamo fatto riflessioni in merito cercando di individuare anche equilibri all'interno degli inviti a questo convegno. E poi c'è una segreteria organizzativa molto agguerrita a cui dobbiamo molto, in particolare Michele Cento che ha coordinato questa segreteria. E poi ricordo i nomi di Silvia Benini, Francesco Casales, Valentina Casini, Achille Conti, Cecilia Monesini, Francesco Davide Ragno, Nicola Sbetti e Filippo Triola. Devo ringraziare anche la pazienza di Valentina Ferretti di Articultura con cui ci siamo confrontati per tutte le questioni organizzative. Ci sono diversi sostenitori, perché questo è un convegno ovviamente che richiede un sostegno anche finanziario importante. Ovviamente l'Ateneo, il Dipartimento delle Arti, il sostegno del Disci, però mi fa piacere anche ricordare il sostegno esterno, l'Ecole Française de Rome, l'Istituto Storico Italo-Germanico, l'Istituto Storico Tedesco di Roma, Il Mulino e l'Associazione Ricerche di Storia Politica e la SISCAT. Per cui è un nutrito gruppo di sostenitori convinti della bontà, della necessità, direi quasi, di questo incontro. Ecco, direi che è un incontro che parte sotto una buona stella, perché essendo, provenendo da tre mesi di siccità assoluta, il fatto che oggi ci sia la pioggia non è un colpo di fortuna per i relatori, e perlomeno per quelli che erano convinti di venire nel Paese del Sole, ma questi sono stereotipi che nessun italianista ha più. Diciamo, non è una buona notizia, ma per noi tutto sommato sì, e dunque lo prendiamo come un simbolo e una realtà ben augurante, tutta l'acqua che ci sarà oggi e domani, così dicono le previsioni. Allora, due riflessioni, tenendo presente che è un convegno che ha una forte natura, come ho già detto, un'esigenza di incontro e di scambio. Per cui c'è una riflessione teorica, ma non è questo il centro dell'incontro che inizia oggi. Ed è un convegno questo che intanto, come storici dobbiamo ricordarlo, ha origine in un ambiente, quello della storia contemporanea comparata di Bologna, di cui diversi membri, il comitato scientifico, fanno parte per formazione e per scelta. Si tratta di un comune sentire avviato, e questo va detto con consapevolezza in Italia, oltre ai 40 anni fa da Paolo Pombeni. Ed è un comune sentire da cui partono domande e progetti, come quello di questo incontro messo in cantiere, come vi dicevo, 5 anni fa, che però oggi non ha perso ancora nulla dell'interrogativo e della spinta originale. Il primo obiettivo che ci siamo posti è stato quello di dare un'opportunità di confronto e di scambio diretto ad una comunità diffusa che ha numerose ramificazioni in tutto il mondo e di cui i presenti sono una significativa rappresentanza. Al centro dei lavori, questo lo sottolineo, che stiamo avviando, ci sarà la storia d'Italia, o meglio, le ricerche recenti e quelle in corso, che quella storia ispira fuori in Italia, all'interno di una dimensione spesso più ampia e talvolta trasnazionale. Insomma, lo sguardo degli altri in un gioco di immagini riflesse è fondamentale per capire e capirsi. Forse, mi viene da dire, la sensibilità che ha ispirato questo tema è anche il frutto di una dinamica che potremmo definire hegelianamente di riconoscimento. Non a caso il concetto trasversale alle tre keynote lectures che sono programmate è quello dell'identità e in che modo si costruisce nell'indagine storica. La storia d'Italia ha nel tempo acquisito un suo proteiforme profilo all'interno di una dimensione di ricerca extranazionale. Non è un fatto scontato, però, quello che proviamo oggi. Non è sempre stato così, dato che il dopoguerra, per molti anni poi dopo, si è caratterizzato ovunque nel mondo, non solo in Italia, per una prevalente, certo non esclusiva, tradizione nazionale nella lettura degli eventi storici. Il convegno vuole essere anche l'occasione per confermare la fine, è inutile dirlo qui, siamo tutti d'accordo, della tradizionale impostazione, ancora dominante nel momento in cui io stesso ho cominciato a fare ricerca comparata, impostazione dell'Italia come modello per lo più negativo, ma talvolta anche per reazione positivo. Da alcuni anni la storiografia italiana è impegnata a contestare l'idea dell'eccezionalismo italiano. Il volume del 2020, curato da Benigno e Mineo, L'Italia come storia, primato, decadenza e eccezione, rappresenta una sintesi efficace di una tendenza da tempo in atto. Troppo a lungo, sotto le più varie sembianze, è stato coltivato lo spirito che definirei del Grand Tour in una parte degli storici stranieri. Troppo a lungo, soprattutto, permettetemi di dire, alcuni degli storici trapiantati in Italia interessati a leggere ovunque ritardi di sviluppo politico, sociale e culturale rispetto a modelli predefiniti che per lo più andavano ricercati nell'Europa del Nord. Da un po' di tempo questa impostazione è in crisi. Come sta venendo meno, peraltro, l'indulgente interpretazione dell'Italia come eccezione? Così si dovrebbe mettere fine all'interpretazione modellistica, all'ossessione di primati, positivi o negativi, che siano, e dunque, in ambito storiografico, mettere fine a quelle gerarchie valoriali messe in mostra nel pioneristico lavoro di Ernesto Ragionieri, l'Italia giudicata. Sono passati tanti anni, ecco, quel mondo lì si sta chiudendo ed è questa l'occasione, in qualche modo, per confermarlo, a mio avviso. Per molto tempo, dunque, e voi lo sapete, l'Italia è stato il terreno privilegiato di indagine per chi voleva studiare la parabola della civiltà. dove studiarla, d'altronde, se non in Italia, erede inevitabilmente decadente dei grandi universalismi della Romanità e della Chiesa Cattolica. Il tema nuovo, almeno su così vasta scala, che proponiamo, non è cosa si dice dell'Italia, ma cosa si studia della sua storia e perché la si studia. Si tratta di una lettura, quella che vogliamo proporre, inevitabilmente, naturalmente comparata, che è tale anche quando non viene effettuata alcuna comparazione, perché la storia della presenza dell'Italia nel mondo, quella del mondo in Italia, è un gioco di specchi, di storie interconnesse, a cui lo studioso straniero non si può sottrarre. E sono certo che un incontro come il nostro fornirà una panoramica molto stimolante per tutti, in quanto con le risposte ci restituirà sbardi e argomentazioni incrociate che possono fornire prospettive nuove. Infatti, le domande che sono alla base delle ricerche qui presentate, pur nascendo, come tutte le domande storiche, dal tempo presente, sorgono, lo accennava prima Giacomo, in luoghi politici e accademici altri, da una prospettiva che potremmo definire dislocata e che continua a rimanere tale anche nell'epoca della globalizzazione. Sorgono cioè tra studiosi con caratteristiche e formazioni diverse che non hanno radici in Italia e nel suo retroterra culturale. Perché si studia la storia d'Italia? Non c'è ovviamente una risposta facile e questi giorni di lavoro potranno dare un contributo magari a cercarla. Però, prima di chiederci perché, comunque partiamo da un dato di fatto non banale, che per quanto non più come un tempo, la storia d'Italia si continua a studiare. Ci sono aspetti casuali e occasionali che non vanno sottovalutati, ma ci sono anche temi, il risorgimento, lo sappiamo bene, il fascismo, ma anche l'Italia repubblicana in cui il boom economico, il più grande partito comunista del mondo occidentale, si sono sovrapposti. Dicevo, temi che hanno fatto da traino, creato scuole e filiere, che certamente avevano avuto il vantaggio di avvalersi degli ineseribili riferimenti contenuti nella tradizione degli studi di storia romana e del Rinascimento. Insomma, come sappiamo, gli storici si fanno domande su questioni del passato che hanno origine dalle urgenze e dalle tensioni del presente. Da questo punto di vista l'Italia ha a lungo rappresentato una sfida rispetto ai temi della contemporaneità, una sorta di reagente storico per capire lo sfondo politico, culturale e sociale in cui si collocano in modo ben visibile gli specchi con cui gli osservatori studiano, consapevolmente o meno, i modi e i tempi di quella modernità avviatasi con le rivoluzioni settecentesche in quella che Tiziano Bonazzi ha chiamato la grande Europa e di cui le Americhe hanno fatto parte e forse fanno parte a pieno titolo anche oggi. Ci sono comunque ancora, anche se molto più fragili di un tempo, le grandi tradizioni storiografiche sull'Italia, in Gran Bretagna, Francia, Germania, Stati Uniti, ma non, ad esempio, in Spagna e in Portogallo, ovviamente fatto salvo lo studio del sempre eterno fascismo. In altri paesi mancano scuole o tradizioni, ma si trovano singoli studiosi mossi da specifiche esigenze. Ovviamente esistono fattori legati alle risorse o altri che hanno a che fare con la presenza carismatica di maestri. In realtà il tema è molto più vasto e complesso. Questa potrebbe essere anche un'occasione di riflettere sul significato delle storie di paesi all'interno di altri paesi. come nasce questa tradizione, perché in alcuni casi si sviluppa, perché in altri no. Il tema, dicevo, complicato, però, dicevo, fatto di tradizioni, legami, scambi, pesano però ormai in modo crescente, questo è ovvio, questioni di attrattività tematica legate alle trasformazioni in corso che spostano l'attenzione su altri nodi e su altri paesi. Adesso, sempre più spesso, l'Italia, come è ovvio, viene studiata all'interno di aggregati internazionali e trasnazionali più vasti, variabili complesse su cui, come dicevo, varrebbe la pena soffermarsi e su cui giocano un ruolo non irrilevante anche le politiche culturali nazionali e le scelte editoriali che abbiamo voluto tirare in ballo con le tavole rotonde tematiche. Tuttavia, per concludere, vorrei sottolineare come non ci interessa fare un repertorio della produzione storiografica straniera sull'Italia, ma, ripeto, proprio per il gioco di specchi di cui abbiamo parlato, ci interessa capire attraverso quegli studi la vitalità della storiografia italiana e allo stesso tempo verificare in che modo le trasformazioni tematiche interpretative degli ultimi anni sono stati in grado di entrare in contatto e di innervare le storiografie degli altri paesi. Dunque, siamo qui riuniti e non possiamo evitarlo. Mentre in Europa è in corso una guerra, non tocca agli storici indicare la via d'uscita da situazioni drammatiche come questa, ma che nessuno di noi si sarebbe aspettato. Tocca però a noi mostrare come nella sfera pubblica non si possa e non si debba fare a meno di un sapere critico come la storia che oggi, anche fuori dalle aule scolastiche, dovrebbe essere considerata soprattutto un percorso critico teso all'accertamento dei fatti attraverso fonti verificabili. Sul ruolo della storia nella società Paolo Prodi è stato per un'intera generazione di storici un riferimento imprescindibile, ma se descrivere gli eventi verificandone la veridicità rimane un compito ineludibile per gli storici, va anche detto che non possono e non debbono limitarsi a quello, ma devono andare oltre, ossia cercare di comprenderli che è un obiettivo ben diverso dal giudicarli. Su questo, come tutti voi sapete, Mark Bloch in Apologia della storia ha scritto parole illuminanti con cui vorrei concludere che rinviano direttamente al complicato tema del rapporto tra la storia e la verità. Scrive Bloch Non diciamo che il buon storico è senza passioni, ha perlomeno quella di comprendere. Parola, non nascondiamocelo, gravida di difficoltà, ma anche di speranze, soprattutto carica di amicizia. Persino nell'azione noi giudichiamo troppo. È così comodo gridare alla forca non comprendiamo mai abbastanza. Colui che differisce da noi, straniero, avversario politico, passa quasi necessariamente per un malvagio. Anche per condurre le lotte che si presentano come inevitabili occorrerebbe un po' più di intelligenza delle anime e tanto più per evitarle se si è ancora in tempo quelle lotte. La storia, purché rinuncia alle sue false arie di arcangelo, deve aiutarci a guarire da questo difetto. È una vasta esperienza delle varietà umane, un lungo incontro degli uomini. La vita al pari della scienza ha tutto da guadagnare da che questo incontro sia fraterno. Grazie. Bene, grazie. Adesso iniziamo i lavori veri e propri. do la parola a Giulia Guazzarocca che presiede il convegno. Il convegno sia per quanto riguarda le CER, le presidenze, sia per quanto riguarda i discassanti. È tutto impermeato su studiosi dell'Università di Bologna. Dunque lo spazio è tutto per gli amici storici che vengono da altri paesi. la gestione delle giornate, le presidenze, le discussioni sono attivate da storici bolognesi. Questo è il criterio in cui ci siamo mossi. Per cui ringrazio Giulia Guazzarocca del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, collega che insegna storia contemporanea in quel dipartimento, per aver accettato la presidenza. La chiamo qui al tavolo per iniziare i lavori. Grazie. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Se avete visto il programma di questa prima sessione del convegno è molto ricco, molto denso, quindi inizierei subito. Questa prima parte si intitola rassegne e prevede una panoramica della storiografia sull'Italia degli ultimi dieci anni in quattro importanti paesi Francia, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti. Seguirei l'ordine previsto dal programma chiamando la professoressa Elisabeth Lake che ci farà la rassegna sulla storiografia statunitense relativa all'Italia. la professoressa Lake è docente di letteratura italiana presso il dipartimento di italianistica della Columbia University, si occupa di storia della letteratura italiana e comparata e di storia del cinema. Tra le sue pubblicazioni ricordo Tex Wheeler un cowboy nell'Italia del dopoguerra a Mollino 2018, The Reinvention of Ignacio Silone, Toronto University Press 2003, After War's Suicide and Authorship in 20th Century Italy, Toronto University Press 2011. Prego Elisabeth. Mi sposto? Vieni qui. No, no, vieni qui. Vieni qui. e grazie anche a Fulvio Camarano e tutto il comitato scientifico per aver organizzato questa bellissima conferenza e avermi invitata. Come potete indovinare dal titolo di questo panel, ciò che presenterò oggi non è frutto dalle mie ricerche. Gli organizzatori di questo convegno mi hanno chiesto piuttosto di offrire una panoramica della storiografia americana sull'Italia negli ultimi dieci anni. ora questo compito è più difficile di quanto possa sembrare in primo luogo per ragioni che hanno a che fare con una spiccata frammentazione degli studi sulla storia d'Italia negli Stati Uniti quindi ragioni di contenuto che saranno al centro della gran parte del mio intervento. Ma anche per il criterio di selezione da adottare per delimitare e individuare il campo della storiografia americana o nordamericana e per le questioni relative alla prospettiva sull'Italia che questa selezione comporta. Uno dei tratti distintivi più interessanti dell'Accademia americana è che è ricca di studiosi non americani e ciò vale anche per i diversi campi che compongono gli studi italiani negli Stati Uniti. La questione interessante ma anche difficile è che un lucido gruppo di coloro che popolano il campo di studi sull'Italia e l'America è composto da italiani e dunque una rassegna sulla storiografia americana sull'Italia mi si è un po' trasfermato tra le mani anche in un'esplorazione sulla storiografia degli italiani che lavorano in America studiando il loro proprio paese. Questa preliminare osservazione relativa alla demografia accademica americana ci porta a trarre fin da ora una prima secondo me importante conclusione sulla storiografia americana sull'Italia è una storiografia caratterizzata da bifocalità da un'intima dimestichezza con il proprio oggetto di studi ma anche di distacco e poco fa il professor Cambarano ha parlato della dislocazione di essere dislocato che mi sembra un concetto abbastanza simile ovviamente questo discorso ha un senso solo se accettiamo con tutte le cautele che vogliamo che stiamo discutendo in termini molto generali una questione di prospettive non sto dicendo che gli storici italiani che studiano l'Italia in Italia siano incapaci di distacco critico né alla posto che per poter correttamente interpretare Beethoven bisogna essere tedeschi preferibilmente di Bon più semplicemente vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che la specifica demografia degli studiosi nordamericani dell'Italia in qualche modo influenza la forma e la prospettiva di questo campo di studi ma trasferiamo adesso il nostro guardo dalla popolazione degli studiosi ai loro studi e cose vediamo ciò che emerge al copo d'occhio è un quadro di non facile interpretazione oltre all'immancabile presenza di studi sui soliti o sospetti come il fascismo il cinema neoralista la mafia e gli anni di piombo il panorama restituisce un'immagine di grande frammentazione di argomenti disperati come se mancassi una conversazione comuni a cui agganciarsi o dei temi forti capaci di catturare l'attenzione oltre appunto ai soliti noti in realtà questa frammentazione nasconde una certa consonanza di approccio che discuterò più avanti ma che anticipo qui ovvero una forte influenza dell'asfolta culturalista proprio della storiografia delle scienze sociali americane degli ultimi decenni anche sugli studi sull'Italia l'etichetta studi culturali può essere interpretata in modi diversi in ogni caso una descrizione di studi culturali che credo trovi tutti d'accordo metterebbe in primo piano l'inseparabilità della produzione culturale e dei fenomeni sociali e dei processi politici poiché storici e studiosi di letteratura e cinematografia si sono più avvicinati nel suo insieme la storiografia americana mi sembra sempre più simile agli studi interpretativi più tipici della scholarship estetica e questo vale anche in certi limiti per i miei colleghi britannici non credo che sia un caso a questo riguardo che nonostante le nostre forti inclinazioni storiche David Forgach John Foote Penny Morales Phil Cook ed io siamo tutti incardinati in dipartimenti di italiano o di italianistica non in dipartimenti di storia e dunque questa nuova storiografia produce studi come quello sul corpo neorealista nel cinema italiano del dopoguerra di Carl Spoonover o libri sulla criminalità e la narrativa poliziesca della cultura italiana contemporanea di Ellen Nerenberg o di Elena Past sempre in questa vena ricordiamo i libri di Giancarlo Lombardi sull'eredità culturale del sequestro e omicidio di Aldo Moro e sulla rappresentazione della violenza politica nel cinema italiano contemporaneo il libro recente di David Forgash sulla violenza nella storia d'Italia pure considera il rapporto tra la violenza e i media italiani idem i libri di Carl Ibsen sulle sigarette di Antonio Morena sull'anno 1932 attraverso la letteratura i film e le mostre sono tutti libri che ritengono inseparabili gli eventi e la loro rappresentazione cioè che intendono la storia non come una serie di eventi ma come quegli eventi che vengono raccontati anche un filone forte qual è quello degli studi sul fascismo dunque dimostra la pervasività di questo come ovvio studi di storia intellettuale sociale politica in epoca fascista continuano ad apparire per esempio uno studio della violenza fascista di Michael Ebner una breve storia del fascismo di Marla Stone e la storia del confino politico di Piero Garofalo sono studi di storia politico-sociale che non corrispondono alla prospettiva culturalista altri argomenti importanti sono il modernismo l'architettura e le infrastrutture dell'epoca fascista i lavori di Mia Fuller Lucy Mosby e Paul Buxa per esempio sono esempi di studi di questa tradizione degna di nota in questi libri e la loro capacità di far dialogare in maniera convincente l'analisi delle forme materiali dell'architettura con la storia politica economica e sociale ma prendiamo adesso tre studi che intersecano la storia del cinema e la storia della costruzione di un'identità nazionale sto pensando qui al libro di Jackie Reich sui film di Maciste e al libro sul cinema dell'impero di Ruth Ben-Ghiat entrambi pubblicati nel 2015 questi due studi esplorano la relazione tra il discorso cinematografico e la costruzione di un'identità nazionale imperialista Ben-Ghiat lo fa sottolineando la centralità del viaggio fisico e imaginativo nel processo di costruzione dell'impero Jack Reich studia la panoplia dei film di Maciste realizzati tra 1915 e 1926 intrecciando l'analisi dello sviluppo del nazionalismo italiano con l'emergere dei ideali di una mascolinità moderna in un libro sul confino politico De Norenga legge i documentari e i lungometraggi che descrivono l'esilio interno durante il fascismo come esempi di melodramma maschile questi tre testi aiutano a capire come la svolta sculturalista abbia preso piedi e si studiano un periodo della storia italiana che continua ad attrarre l'attenzione degli storici americani ad una prospettiva e con un taglio che solo due decenni fa sarebbe stato quanto meno inusuale interessante notare come sebbene siano disperati nei loro obiettivi e approcci tutti e tre i testi siano fortemente influenzati dall'interesse crescente verso i studi sulla mascolinità ulteriori esempi dei quali sono i libri di Jean Champagne uno sull'arte omemoratica creato durante il fascismo e uno sul modernismo e la mascolinità durante il fascismo anche Chiara Ferrari studia come la modalità performativa dei discorsi di Mussolini si trasforma in visioni letterarie che permangono anche nella letteratura del secondo dopoguerra come in Gada che è un esempio ovvio ma anche in Vittorini queste nuove prospettive offrono sviluppi importanti sul volentegno allo stesso tempo mi sembra un passo indietro il modo in cui l'Accademia Americana ha lasciato cadere nel dimenticatoio gli studi sul femminismo italiano e sulle donne e difatti uno dei più interessanti libri su questo argomento risale a 1992 How Fascism Ruled Women Italy 1922 to 1945 di Vittoria De Grazia va sottolineato che questa scarsa attenzione non è tipica di altre discipline dell'Accademia Americana o più in generale anglosassone siano esse storiche sociologiche politiche o culturali per le quali lo studio delle donne è uno dei fuochi centrali dell'attuale scholarship e qui vorrei citare due colleghe britanniche Maud Brock e Charlotte Ross che hanno prodotto una lunga ed eccellente serie di studi sul femminismo italiano e sulla cultura lesbica italiana detto questo non vorrei esagerare con l'insistenza su questa svolta culturalista ci sono altri approcci storiografici che si fanno sentire un esempio interessante è il nuovo libro di Vittoria De Grazia Il Fascista Perfetto questo libro dialoga naturalmente con gli studi sulla creazione e l'attuazione dei codici della masculinità fascista che ho menzionato prima e si ripollega anche alla nuova ondata di studi che ha messo in relazione la grande storia e il vissuto degli individui Vicky per prima ci farebbe notare che questa attenzione non è nuova ma il suo libro è un magistrale esempio di questa prospettiva come strumento di indagine storica e poi già che sto parlando dell'astrografia sul fascismo e le sue conseguenze mi si è consentito invertire per un attimo il flusso di corrente invece che parlare della storiografia americana sull'Italia parlare della storiografia italiana in America e menzionare l'apparizione in lingua inglese nel decennio appena trascorso di una guerra civile di Claudio Pavone non è un prodotto di storiografia americana ma la disponibilità di un lavoro di questa importanza al di fuori del cerchio di chi leggi l'italiano non potrà non influenzare il lavoro di altri storici in America non è possibile qui allargare la discussione ma anche ciò che un mercato storiografico assorbe in termini di traduzioni ha a sua importanza tornando al nostro tema ciò che soprattutto si nota è una serie di cospicue assenze sui temi che in passato sono stati cruciali per l'analisi storiografica sull'Italia contemporanea non solo americana manca quasi totalmente la storia economica manca la storia politica e anche la storia culturale e del costume come detto crescono per addizione monografia dopo monografia ma su argomenti separati nessuno offre una sintesi o una visione d'insieme in questo riguardo la prima cosa da notare è che gli storici americani dell'Italia tendono a non scrivere storie dell'Italia da nessuna parte si vedono un Paul Ginsberg un Dennis Mac Smith un Christopher Duggan o più recentemente un John Foote che il panorama storico della Gran Bretagna ci offre generosamente e con ammirabile regolarità l'ultima che ricordi da uno studioso italo-americano non una storia di italiano ma comunque un'ambiziosa sintesi storica del suo Mezzogiorno di Tommaso Asterita di Georgetown University a Washington DC e del 2005 vediamo invece cose molto più circostritte per esempio Venezia A New History di Thomas Madden sulla scia di A Brief History of Venice di Elizabeth Hoarevich o All'ombra del Vesuvio di Jordan Lancaster che è una storia culturale di Napoli sono proposti molto più tipiche e sembrano confermare nell'ambito della storiografia quella che è stata la regola della narrativa letteraria negli ultimi quarant'anni cioè che nessuno si sente più in grado di scrivere con quella che una volta veniva chiamata la prospettiva dell'occhio di Dio scrivere con la pretesa di un'intelligenza omnisciente e visto semplicemente come troppo presentuoso in più aggiungerei che le storie di città vanno anche bene e sono interessanti a volte molto ma rischiano di sviluppare quello che gli economisti chiamano un difetto di composizione una fallacy of composition cioè un problema nel passaggio dallo studio singolo all'insieme di studi nel loro complesso se si limitano alla storia di Venezia di Napoli qualcuno avrà scritto di sicuro sui medici a Firenze poi ci sono i papi imparatori a Roma sembra che il panorama geografico degli storici non si discosti molto da quello dei turisti che alla risposta su che cosa hanno visto dell'Italia rispondono con l'immancabile tripletta Venezia Firenze e Roma un altro esempio di questa reticenza apparente davanti a una visione più unitaria dell'Italia è l'attenzione dedicata al problema mafioso sembra che il mezzogiorno esista solo in termini di mafia per trovare un'eccezione rilevante che conferma la regola devo sfondare l'orizzonte temporale del mio intervento di un altro decennio per menzionare il libro di Nelson Moe The View from Vesuvius pubblicato però nel 2002 ma tornando al successo dei mafia studies questo interesse è in parte guidato dalle iscrizioni universitarie i corsi sulla mafia e sulle rappresentazioni nel cinema e nella letteratura sono molto apprezzati dagli studenti molti universitari ne hanno più di uno tra le loro offerte di corsi e i fondi per la ricerca sono spesso correlati ai dati sulle iscrizioni detto ciò è anche vero che lo studio della mafia è anche un modo per studiare trasversalmente le molteplici sfaccettature della storia italiana dalla sua nascita in concomitanza con quella della nazione ai ruoli di genere alle questioni economiche e sociali e dal modo in cui le tecnologie culturali e la vita reale si costituiscono spesso reciprocamente in questo senso questo filone di studi offre una grande ricchezza di prospettive e di spunti anche in questo caso i singoli studi e la specifica expertise degli studiosi sono tutti elementi positivi ma se facciamo un passo indietro e proviamo a guardare le cose in prospettiva non possiamo non notare quanto spazio prenda lo studio della mafia come sotto ambito degli studi sull'Italia tutto quanto detto finora non significa che le caratteristiche sociali politiche ed economiche della seconda repubblica non ne abbiano offerto spunti di riflessione agli storici americani dell'Italia di sicuro come ho avuto modo di sostenere non ne hanno scritto direttamente in più ci sono pochissimi libri che trattano specificamente l'argomento della seconda repubblica e posso comunque segnalare due una pre-storia culturale dell'Italia di Berlusconi di Alessio Ricciardi e il sacco di Roma di Alexander Stille che forse non ha caso il libro di un giornalista eppure quelle trasformazioni politiche sociali ed economiche che hanno caratterizzato l'Italia a partire dagli anni 80 del XX secolo come per esempio la fine dell'Italia industriale il crescere dell'intreccio di media e potere politico la fine dei grandi partiti storici di massa e l'ascesa dalla Lega e il riposizionamento non voluto e non gestito dell'Italia nei flussi migratori del Mediterraneo non sono totalmente assenti dalla storiografia americana quanto meno si può provare a trovarne traccia in alcuni casi invece di studiare la storia della nazione o dell'Italia come se fosse un oggetto discreto molti studi concepiscono la nazione in fieri prestando l'attenzione alle mille forze che la plasmano ogni giorno chiedono che cosa costruisce la cultura italiana oggi per esempio Norma Bouchard e Valeroferme declinano la costruzione dell'identità nazionale nel contesto del coinvolgimento di guerra post-guerra fredda con manufatti culturali più ampiamente considerati mediterranee occupandosi di influenze artistiche e della globalizzazione in ogni caso sempre da una prospettiva mediterranea Nicoletta Pireddo discute il concetto di mobilità identitaria Claudio Fogu indaga la formazione dell'identità nazionale e l'immaginario collettivo italiano attraverso la lente del mediterraneo Stefanie Malia Homme scrive delle radici storie della crisi migratore contemporanea e David Forgash che pur essendo inglese lavora da molti anni a New York e quindi rivendico come studioso americano così come tanto americani i miei colleghi e le mie colleghe che lavorano in Nord America si interroga su come l'elaborazione del concetto di marginale serva ai bisogni di una nascente identità nazionale e ce n'è tanti altri ciò che unisce tutti questi titoli è il rifiuto di un presupposto di un'Italia dato per scontato a favore di una domanda di base e in che cosa consiste la nazione e come si costruisce senza voler semplificare troppo si direbbe che rispetto agli storici italiani gli studiosi americani sono particolarmente attenti alle basi retoriche e discursive della storia ovvero al modo in cui i concetti come vitalità pluralità razza mobilità e marginalità non cambiano semplicemente attraverso gli anni ma più precisamente costituiscono sia la storia che l'identità nazionale stesse penso per esempio agli studi di Silvana Patriarca un'altra italiana americana di Fordham University dieci anni fa Silvana Patriarca pubblicò un volume molto importante sull'identità italiana la nazione e il carattere italiano era dagli anni 90 che questo tema aveva conquistato centralità dalle crisi di Mani Pulite lo sdoganamento della destra fascista da parte di Silvio Berlusconi e le discussioni tra opinionisti storici sul ruolo che l'esperienza fascista e la resistenza avevano avuto nel dare forma all'identità dell'Italia ripubblicana il libro della Patriarca dunque è un esempio di un argomento trattato direttamente oltre che in maniera molto convincente e lo dico per evitare semplificazioni ma il libro più recente della Patriarca intitolato Il colore della Repubblica non solo è un bellissimo studio sui figli nati nell'immediato dopoguerra da donne italiane e soldati alleati non bianchi ma può essere letto anche come la reazione di una storica su una forma di discorso pubblico molto contemporaneo e presente in questi ultimi tre decenni che si ostina a declinare l'identità in termini di colore della pelle ricordiamo il caso di Danny Mendes la sua elezione a Miss Italia nel 1996 causò un'accesa polemica a proposito del colore della sua pelle con dichiarazioni pubbliche per sostenere che la pelle nera non poteva rappresentare la bellezza italiana in un certo senso sembra che la storiografia americana rifletta obbligamente e in un mondo molto frammentato su processi di trasformazione che gli storici italiani affrontano direttamente ora questa prospettiva etichettata come americana è come ho detto un'apertura molto problematica a causa della forte diretta italianità di molti colleghi che lavorano negli Stati Uniti ma se posso provare a generizzare su queste basi problematiche quantomeno per provare ad offrire uno spunto alla discussione forse non è del tutto fuori luogo notare che anche per gli italiani in america vale il fatto che la distanza esiste in termini di quanto facile il quotidiano e pervasivo è l'accesso ai media al discorso pubblico e all'esperienza della vita quotidiana in Italia nonostante internet c'è una grande differenza tra accedere alle notizie online a 6, 7, 8, 9 ore di differenza diffuso orario o accendere il televisore sulla RAI in diretta prendere l'autobus che mi ha portato da casa qui e ascoltare per caso e i commenti di due avventori al bar in conclusione la dilutanza a tentare grande narrazione e alla svolta verso gli studi culturali sono a mio avviso due importanti ragioni per capire le dinamiche che abbiamo osservato invece vediamo una quasi ossessione con i processi di costruzione dell'italianità come in un caleidoscopio la storia d'Italia si scompone e ricompone in pezzi piccole nella frammentata storiografia americana che cerca di interpretarla grazie grazie mille Elisabeth per questa interessante rassegna molto ricca e di spunti e passiamo al caso francese non so se può rimanere Elisabeth o devono alternarsi e può sedersi se vuole e mi ha ok perfetto bene passiamo alla Francia con Stefano Morlaine che è professore di storia contemporanea presso l'università di Smart 6 si occupa tra le altre cose di storia politica e culturale dello sport e di storia dei processi migratori mi perdonerete le sue pubblicazioni le dico in italiano perché vi risparmio la mia pronuncia francese le battaglie di Marsiglia e immigratione violenta conflitti presso dell'università de Provence 2013 cultura politica guerra e memoria mondo del lavoro presso dell'università de Provence 2021 e poi atlante dell'italia contemporanea con Aurelien del Firou del 2011 grazie prego Stefano grazie a lei buonasera prima vorrei dire che sono felice di venire finalmente a Bologna e vorrei anche ringraziare gli organizzatori di questo bellissimo convegno allora il panorama delle produzioni storiografiche francesi riguardanti l'Italia contemporanea nel corso della dozzina di anni tra il 2009 e il 2021 manifesta un'intensa attività che testimonia la forza dell'eredità ma anche la capacità di storici di differenti generazioni ad aprire nuovi cantieri oggi oggi bisogna ricordare che Pierre Milzat scomparso nel 2018 ha ricoperto un ruolo essenziale per far conoscere la complessità della storia italiana a quei francesi che la considerano con una certa condiscendenza come ricordato nell'introduzione di un libro pubblicato in suo omaggio quindi tra il 2009 e il 2021 la produzione editoriale è stata importante e a tal punto che difficilmente potremo qui aspirare all'esaustività vorrei oggi darvi alcuni riferimenti bibliografici con solo libri riviste o articoli pubblicati sottolineando alcuni temi di studio prima il processo di rivoluzione stato nazionale e le forme di affermazione e di espressione dell'identità nazionale suscitano dal tempo l'interesse degli storici francesi il libro di Gilles Pecou Nessance dell'Italie contemporane pubblicato nel 1947 e successivamente riedito continua a essere un punto di riferimento che permette non soltanto ai lettori francesi in particolare agli studenti di connessere le principali problematiche ma offre anche alcune linee di ricerca Gilles Pecou ha anche colto l'occasione della commemorazione per il 150 anni dell'unità italiana per pubblicare con Catherine Brice un dossier della revue d'histoire du Disney che propone che propone riletture dell'Italia risorgimentale contemporaneamente in un altro dossier pubblicato in due volume della rivista transalpina Laura Furnier Finocario e Jean-Yves Frétinier si propagandano di difendere il risorgimento di fronte alla crisi permanente degli ideali nazionali in Italia e anche di soffermarsi sulla realtà multiforme del risorgimento è vero che il senso dato a questo crononimo è complesso e varia secondo le epoche e le posizioni ideologiche che interrogano come sottolinea Catherine Brice la natura dell'evento Gilles Pecou lì da un senso particolare attraverso una lettura mediterranea e transnazionale concentrando in particolare l'attenzione sul volontario armato internazionale più recentemente gli studi hanno anche esaminato la copertura mediatica del risorgimento in Europa attraverso il caso particolare della battaglia di Ventana o la figura del movimento liberale napoletano Carlo Poiero Piermarie Delbu era interessato a un libro precedente al regno del 2 Sicile cercando di ricostruire i meccanismi della politizzazione liberale per sottolineare la singolarità di un risorgimento meridionale tra adesioni e resistenze alla costruzione nazionale italiana e ripropriazione della stessa si sviluppa poi un'identità nazionale anche si lunghi dall'essere cristallizzata per tutto il seguito del Novecento come mostrano gli studi riuniti da Olivier Forlan la riflessione si è a riccita dell'analisi condotte nell'ambito di un vasto programma di ricerca collettivo coordinato da Catherine Briss sulla fraternità come categoria dell'impegno politico ne emerge come prolungamento del lavoro di Alberto Maria Banti storico italiano che la famiglia ha costituto una base e un impulso per il processo di formazione nazionale in Italia un convegno organizzato da Philippe Foro è servito anche a ricordare a che punto il riferimento all'antichità romana ben prima di servire da legittimazione al regime fascista è stato un elemento di strutturazione della cultura nazionale in formazione nell'otteggimento bisogna notare che visto nella Francia Garibaldi resta la grande figura dell'unità a cui Pier Milza ha consacrato una nuova biografia mentre la pubblicazione degli atti di un convegno si propone di analizzarne l'immagine e l'eredità in Italia e altrove la questione del compimento del processo di unità nazionale nel lungo periodo fino a oggi è al centro dell'Atlante che abbiamo realizzato con un collega geografico e un sintesi accessibile agli studenti e un pubblico più vasto attraverso mappe e grafici con l'obiettivo di fornire delle chiavi per capire o per visualizzare l'Italia e quindi rappresentarsela in mondo da affermarne i caratteri di unità e diversità i mutanti e le persistenze come scrive Marc Lazar nella privazione devo dire che grande parte della storiografia francese sovola sulla partecipazione dell'Italia alla prima guerra mondiale per continuare l'indagine sul regime fascista nel solco dei studi fondatori di Pierre Milsa il dizionario dell'Italia fascista di Philippe Foro offre degli utili focalizzazioni tematiche mentre Olivier Forlan fa una sentesi delle differenze d'approccio e dei debatti titi tra gli storici italiani e stranieri della sua parte Frédéric Lemoal rilancia la discussione sulle origini ideologiche del fascismo attribuendo un ruolo essenziale all'influenza della rivoluzione francese ma questo punto di vista non raccoli l'unanimità al contrario il valore oristico del concetto di totalitarismo nella comprensione del regime è largamente ammesso ma Anne Matarbonucci riprende le definizioni che Anna Arendt dà del totalitarismo per porre l'accento sul ricorso alla violenza su tutte le sue forme come elemento di stabilizzazione e di indirizzo sociale attraverso la repressione degli avversari politici attraverso la bellicosa politica coloniale e infine attraverso l'antisemitismo e le persecuzioni degli ebrei planificati dello Stato nel suo libro sulle reti di Monsignor Benini Nina Valbuschè tratta della partecipazione attiva di gruppi cattolici e figure ecclesiastiche che hanno una sorta di internazionale antisemita antisemita l'assenza di opposizione a questa spirale di violenza ha comportato la danna memoria del re Vittorio Emanuele III a quale Frederick Le Moelle consacra una biografia lo storico vi presenta i rapporti tra il re e Mussolini con più complessi a volte anche conflittuali dal conto suo Pier Milza si è interessato alle conversazioni di Mussolini con Hitler mostrando che i due dittatori a dispetto delle numerose divergenze che li contrappongono nutrono un'admirazione reciproca che si rivelerà funesta per Mussolini Mathilde Emard e Pierre Vallaud raccontano così l'agonia del regime a salvo mentre Pier Milza narra gli ultimi giorni di Mussolini infatti diciamo che la partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale non suscita grande interesse la seconda guerra mondiale è ovviamente affrontata nel libro magistrale di Hubert Eries sulla storia dell'esercito italiano sin all'unità non sorprende l'interesse successato innanzitutto della guerra franco-italiana analizzata sia nell'ottica dell'operazione militare l'occupazione ad opera dell'esercito italiano della Francia Meridionale a lungo percepita come più buon'aria rispetto a quella ad opera dei tedeschi soprattutto in ragione di un'applicazione poco rigorosa della politica raziale se questa occupazione viene rivalutata da Jean-Louis Panigaci che insiste sulla repressione esercitata dell'occupante transalpino nei confronti della resistenza la storia la storia più recente dell'Italia contemporanea da origine più studi come scrive Marc Lazare l'Italia la cui espansione della seconda guerra mondiale è stata spettacolare non cessa di sorprendere l'opera collettiva che dirige ha quindi l'ambizione di restituire i moltiplici aspetti della traiettura dell'Italia dal 1945 secondo una prospettiva che gli è cara e che sostiene la maggior parte di questi lavori Marc Lazare intende superare le analisi incentrate su una prestesa anomalia italiana per al contrario pensare l'Italia contemporanea come una sorta di laboratorio tuttavia gli storici si preoccupano sempre di scrivere le loro spiegazioni nella durata sulla falsiria di Marc Lazare che analisa i cambiamenti e le continuità rivelati della terza reelezione di Silvio Berlusconi nell'april del 2008 i molti di governo sotto una questione ricurrante per quel che riguarda l'Italia contemporanea in un dossier della rivista di Scienze Po Histoire Politiche il periodo della transizione del fascismo verso la democrazia examinato più particolarmente come un momento di reinvenzione del politico tra continuità e retour un dossier della rivista Laboratoire italiana cerca d'altronde a rivelare la specificità di una via repubblica italiana la famiglia politica repubblicana si lega in un altro dossier della rivista Parlement si è soprattutto mostrata attraverso le sue personalità di primo piano Mazzini Caterano Garibaldi Carducci Lamalfa per esempio che personalità che hanno incarnato l'ideale repubblicano ma che hanno faticato a trovarli una traduzione istituzionale in particolare a causa di un debolo attaccamento al parlamentarismo occorre notare che per quanto riguarda il periodo liberale Antonin Durand offrì un sguardo originale sul funzionamento dell'istituzione parlementare attraverso lo studio dei matematici divenuti deputati o senatori per tornare più specificamente al periodo della seconda metà del Novecento la ricerca francese si è mostrata all'avanguardia nello studio degli anni di Piombo questa iniziativa è ovviamente favorita da una certa distanza memoriale rispetto al trauma causato in Italia dall'ondata di violenza degli anni 70 nonché grazie all'apertura degli archivi l'opera diretta da Marc Lazard e Marianne Matar Bonucci è sicuramente un primo punto di riferimento essenziale gli autori storici politologi sociologi giuristi italiani e francesi ma anche i protagonisti si interrogano sulle ragioni e sulle usi della violenza per pensare e consenzializzare gli anni di Piombo in Francia come in Italia chiaramente l'affare Aldo Moro ha lasciato un segno un segno della confianza Filippo Foro ci ritorna con un lavoro destinato a chiarire ad un vasto pubblico la complessità dei fattori in gioco l'approccio di Gregoire Le Cong è tutt'altra portata epistemologica perché si propone di comprendere come la società italiana nel suo insieme abbia vissuto al ritmo della porra nel corso degli anni gli studi sul periodo degli anni di Piombo e in maniera più generale sull'Italia contemporanea si iscrivono risolutamente in una storia politica rinnovata aperta alla storia sociale o alla storia culturale Frederic Attal che dedica le sue ricerche agli intellettuali italiani offre in questo modo numerose chiavi di lettura e di comprensione delle dinamiche politiche in atto il contributo della biografia di Gramsci scritta da Jean-Yves Frétigné è incentrata sull'uomo il suo pensiero e la sua posterità va nella stessa direzione gli storici francesi illuminano sotto un'altra luce la storia politica sociale e culturale dell'Italia nel novecento puntando i proiettori sul fenomeno sportivo il valore euristico di questo campo storiografico non deve più essere dimostrato la storia dello sport dello storico francese Paul Giaci dello storico italiano Stefano Pivato permette così di afferrare i principali aspetti della storia dell'Italia contemporanea nel corso degli ultimi anni lo sguardo si è postato sul periodo successivo focalizzandosi per molti sul calcio una passione italiana Fabien Archambaud fa del calcio una chiave di litura della storia dell'Italia repubblicana in particolare mostra in un libro importante come catolici e comunisti compettano in materia sportiva in vista del controllo sulla gioventù in Italia quale che sia l'epoca lo sport serve a consolidare la legittimità del potere attraverso la messa in cena delle pratiche fisiche e dei dirigenti ma anche lo sport è il luogo dell'espressione contestatari di questo potere in particolare negli anni 60 e 70 e in particolare in Bologna come li mostra Fabien Archambaud le tribune degli stadi di calcio si politizzano con l'apparizione in Italia tra i tifosi del fenomeno dell'ultra particolarmente studiato da Sebastien a questa cultura scontro che trasporta negli stadi subito fuori da essi la divisione della società italiana si oppone la funzione unificatrice dello sport la vittoria della nazionale di calcio nel 1982 sul momento è persino interpretata come un nuovo risorgimento la memoria di questo evento è forse dolorosa oggi dopo la disillusione della settimana scorsa mi dispiace le zone dei rapporti tra l'Italia e il resto del mondo si concentrano principalmente sull'area mediterranea che come è vero costituisce uno spazio sul quale il paese l'Italia considera di disporre di interessi particolari per ragioni geografiche storiche economiche e strategiche l'imperialismo italiano ha dato luogo a quel studio sulla colonizzazione in Libia come questo di François de Mazy sullo sviluppo della città di Tripoli la pretesa italiana sulla zona adriatica e balcanica fino alla prima guerra mondiale hanno dato luogo a diverse pubblicazioni di Fabrice Gesne Fabrice Gesne conduce peraltro un programma di ricerca collettivo dedicato alla storia dei consoli e dei servizi consolari italiani all'indomani della seconda guerra mondiale l'Italia preoccupata per il suo riusciamento internazionale deve rinunciare a condurre nel Mediterraneo una politica di potenza resta comunque il fatto che i dirigenti italiani intendono mantenere sviluppare e sviluppare un'influenza nella regione sviluppando un'intensa attività di relazione e di scambi culturali basata sull'espressione del disinteresse coloniale riguardante una molteplicità di attori l'Italia intende rivestire il ruolo di ponte tra Oriente e Occidente che è giustificato storicamente mettendo in valore l'esperienza multiculturale della Sicilia medievale cito qui il libro di Jean-Yves Fretinier sulla storia della Sicilia questa politica mediterranea era disapprovata dalla Francia e in questo tema sono numerosi di studi incontrati sul rapporto tra la Francia e l'Italia Gilles Bertrand Jean-Yves Fretinier e Alessandro Giacone offrono un panorama sulla lunga durata di questa storia di due nazioni sorelle i rapporti tra due paesi sono tuttavia esempitati in tutta la loro ampienza in particolare per quanto riguarda i periodi più recenti sono tuttavia le relazioni culturali che facendo eco agli importanti rinnovamenti storiografici in materia attirano da quel che hanno l'attenzione dei ricercatori oltre alla diplomazia culturale gli studi sono incentrati sull'circulazione di attori e prodotti culturali che contribuiscono non solo per una miglior comprensione reciproca ma anche alla formazione di uno spazio transnazionale attraverso la distribuzione di libri francesi in Italia alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento l'insegnamento della lingua italiana o ancora attraverso i viaggi francesi nell'Italia delle camicie nere è possibile sondare più in profondità l'intensità delle relazioni franco-italiane dopo la seconda guerra mondiale la cultura serve anche a rilacciare i fili di una relazione distesa l'immigrazione italiana in Francia è ovviamente un aspetto importante del rapporto tra i due paesi il catalogo della mostra Ciao Italia un secolo di migrazione di cultura italiana in Francia organizzata nel 2017 al Museo Nazionale della storia dell'immigrazione a Parigi ma anche l'opera collettiva collettiva diretta dall'Ortoliere italiana 150 anni di migrazione a Francia e ailleurs ricordano le complesse modalità di integrazione e i contributi di questi italiani che hanno fatto la Francia è stata sottolineata in particolare la circolazione l'importanza delle migrazioni temporanee delle partenze dei ritorni dei ritorni definitivi questa fluidità di movimento caratterizza i parcorsi degli esiliati dal risorgimento all'ottocento che sono stati oggetto di molti studi l'impegno antifascista continua a essere studiato ma il fascismo italiano di Francia d'altronde è nettamente meno esplorato mentre la storiografa internazionale sul fascismo all'estero è abbondante da notare tuttavia gli utilissimi articoli di Eric Vial e Ralph Schor che riassumono alcuni studi regionali lo studio di Caroline Pan sulle case d'Italia in Francia apre anche da questo punto di vista una via stimolante dal punto di vista della storia sociale ci sono studi sulle donne italiane in Francia un aspetto a lungo trascurato e la storia delle migrazioni è dalle partenze influenzate dalla storia della cultura la canzone o ancora la pratica sportiva figurano tra i nuovi oggetti di ricerca il radicamento regionale infine continua a caratterizzare lo studio dell'immigrazione italiana le regioni di forte insediamento di queste immigrazioni già ben studiate come la Francia Meridionale o la Lorena donano luogo a delle ricerche aggiornate mentre altre regioni d'accoglienza altrettanto importanti come la regione lionese più inedito ancora è lo studio di Hugo Vermeuren sui italiani a Bonn le questioni economiche suscitano un minore numero di analisi inoltre alcuni periodi come la guerra mondiale o alcuni ambiti come l'impero coloniale sono meno trattati è anche importante osservare che il rinnovamento generazionale è assicurato aggiungo per finire che potrete ascoltare durante questo convegno le relazioni dei diversi storici che ho citato in questa relazione grazie allora ringrazio moltissimo Stefan Morlaine per questa ricognizione ricca approfondita della storiografia francese sull'Italia più recente degli ultimi dieci anni e adesso dobbiamo passare passiamo a un altro interessante caso paese la Gran Bretagna e invito il professor Jonathan Morris il professor Morris insegna la University of Elforshire è uno storico dei consumi con una specializzazione che mi incuriosisce molto e mi interessa anche perché ne sono una canita consumatrice sulla storia del caffè e a lungo si è occupato e continua tuttora a farlo di storia dell'Italia contemporanea storia comparata dei paesi europei tra le sue opere ricordo Italian Marketing History in Journal of Historical Research Marketing 2015 Coffee a Global History 2018 e la globalizzazione dell'espresso italiano in Memoria e Ricerca 2006 prego Jonathan grazie tanto ringrazio anch'io gli organizzatori sono molto contento di essere qui a Bologna è stato un po' di anni c'è stato allora io faccio un intervento un po' diverso nel senso che non lego vedi provo a parlare italiano scritto delle parole in inglese perché so che voi sono più facile leggere le mie parole in inglese che io scriverle in italiano comunque in cambio provo a parlare a voce senza noti che idiota ok perché sono qui vorrei cominciare con questo come il mondo perché è un po' diverso io come grazie alla Guazzoluca per l'introduzione però intendo in modo un po' di più io sono qui semplicemente per un motivo quando ho accettato le invitazioni era perché sono stato parte della commissione del cosiddetto Research Excellence Framework di adesso di 20.021 che però come tutte le cose è stato un po' messo fuori a proposito di Covid eccetera eccetera e quindi durante tutte le negozioni per fare questo convegno con Fulvio io ho pensato oh questo sarà facile a fare perché avrò di leggere tutte le cose in italiano che sono presentate a questa commissione e quindi faccio un breve risulto di quello basta no perché i problemi sono moltiplici ovviamente prima è stato un po' sospeso il convegno poi è stato sospeso il ref quindi siamo al punto io posso dirti qualche cosa voi non dovrebbe dire in avanti altrove fuori di questa aula cosa vi ho detto spero che possiamo fare questo patto altrimenti siamo in guai ok questa è la prima cosa però c'è un altro motivo per cui ho voluto cominciare con una cosa un po' personale ed è questo che io sono iniziato a studiare in Italia quando sono stato uno studente troppo anni fa adesso alla Johns Hopkins qui a Bologna in cui ero infatti sotto la guida del nostro storico inglese che però vive per tanti anni in Italia il famoso Adrian Middleton e vorrei notare che quest'anno ero infatti l'anno più importante nella vita mia perché io sono arrivato all'Hopkin senza sapere quasi nessuna cosa sulla storia italiana senza parlare una parola di italiano non è cambiato chiaro e devo dire che anche cioè una cosa migliore però per me abbastanza importante io ho anche incontrato mia moglie l'unico sbaglio che ha fatto è che mia moglie non è italiana sarebbe stato molto molto l'altro comunque ho cominciato con questo pezzo di nostalgiche e c'era un motivo alla fine si vede quale motivo è ok vorrei cominciare anche a parlare un pochino come ha fatto Elizabeth Sue diciamo il mercato di storia italiana più grande in Italia cioè il mercato della storia italiana più grande in Inglaterra ha fatto un grandissimo ricerca cioè sono andato su Amazon e chiesto quali sono i bestsellers della storia italiana si vede che ho diviso in due per farvi un per farvi un foto di com'è in generale e come lo è in specifico per il nostro periodo quindi si vede che in sostanza sono libri di impatto generale si vede che abbiamo uno storico che chiaramente ha fatto quanti potrini James Holland che ha scritto questi libri che sono gli interessi degli inglesi per un motivo molto semplice cioè che parlano della guerra mondiale parlano delle parti che hanno fatto proprio le truppe inglesi quando fanno gli incontri in Italia ha fatto un libro su Sicilia e ha fatto un altro che mi parla a chiedere qualcosa come Italy's Sorrow che parla di tutto l'imperiore seconda guerra mondiale si vede a parte di quello che se abbiamo gli stessi temi in generale abbiamo i temi medici rinascimento Roma eccetera eccetera i libri di scopo vasto insomma poi ho provato ad andare un po' in più ho guardato i libri italiani sull'Italia moderna e si vede che anche questi sono suggestivi quelli che ci sono nel senso che abbiamo il posto 2 abbiamo Pellegrino Attusi non sapevo che erano storico ma sono molto molto contento di vedere Attusi lì e si vede che il resto abbiamo le stesse cose abbiamo la guerra abbiamo la resistenza c'è un libro recentemente uscito dalla Mohed sulle donne della resistenza abbiamo un tipo di quell'occhio di Dio di cui ha parlato la leak scritta da David Gilmour infatti l'ho messo lì perché il 50% si parla del processo di unificazione e poi è l'ultimo che infatti è 56 nel ranghi in totale quando ho festo fuori tutto il resto che sono non parlano veramente di Italia non sono libri non importanti quindi 56 troviamo finalmente uno che è un storico scientifico con un posto in università a 56 abbiamo John Dickie e Cosa Nostra che ovviamente è proprio come quella parte della produzione di cui ha parlato la leak sulla mafia comunque ho cominciato con questo perché vorrei passare osavare che ci sono professionisti che scrivono sull'Italia che hanno fatto anche bel carriere facendolo però non credo che loro entrino nella nostra idea di cos'è la storiografia britannica sull'Italia ho provato a fare una mappa in certo senso ripeto in questa zona quello che ha detto Elizabeth però ho provato a individuare i vari diversi aspetti che ci sono che potremmo mettere in queste idee di cosa sarebbe una storiografia britannica dell'Italia moderna quindi vorrei dire abbiamo al capo ci può coprire questo grazie ok abbiamo da capo messo come questi autori scrittori professionali come Holland ma poi abbiamo nel centro abbiamo i punti di dialogo i punti in cui siamo messi in dibattito dei luoghi come ASMI associazione per lo studio del modern Italy il seminario che teniamo all'istituto di ricerca di Londra e la rivista modern Italy prodotto in Inghilterra questi mi pare sono dove tutti questi gruppi a parte di quegli autori professionali fanno parte quindi abbiamo però un bel diversità di membri abbiamo ovviamente gli storici britannici che insegnano che fanno parte della staff permanente all'università che è negli dipartimenti di storia ho nominato Perry perché lo vedo lì abbiamo anche gli storici non inglesi che sono nelle università britannici nominano ovviamente i Biagini perché immagino che tutti voi conoscono Biagini abbiamo poi come ha detto anche la abbiamo poi tanti persone storici che lavorano però in altri tipi di dipartimenti di studi italiani come il dipartimenti di studi di film come Gundl tutti questi persone diverse abbiamo anche i storici inglesi britannici in posti nel sistema italiano come il famosissimo Paul Ginsburg abbiamo i storici che fanno parte i storici britannici che fanno parte si vuole della grande strutture che ho chiamato l'anglosphere quella americana australiana eccetera eccetera sentiamo David Fogash in questo convegno che è uno di quello e abbiamo direi anche i storici italiani che pubblicano tanto in inglese per quel modo ovviamente sono entrato proprio nella storiografia inglese o meno come punti di riferimento molto forte e meno a scappellini come esempio perché quasi tutti i libri di scappellini sono ottenibili in inglese e come no finalmente vorrei ricordare che c'è un'altra categoria ai nostri colleghi che non hanno posti provenienti e che vanno non solo all'università o un altro ma molte volte a un paese o un altro cercando posti temporali di lavoro alle stesse volte di contribuire cito l'esempio di Van de Wilcox non lo so le situazioni personali di Van de Wilcox posso dire che probabilmente è il più grande esponente della storia della grande guerra in Italia che scrive in inglese a questo momento però non ha un posto in università permanente ok questa è una mia grande carta della storiografia britannica passiamo a parlare della REF che mi ha perseguito per anni adesso ok il REF copre solo gli anni 2014 finché 2020 tutti i dipartimenti di storia devono fare una submissione di tutti gli individui che hanno cosiddetto significant responsibility for research responsabilità di significanza per la ricerca quindi fanno una parte pagata del loro tempo per fare la ricerca c'è una regola che dice che le uniti di storia devono presentare per valutazione 2.5 volte il numero cioè 2.5 pubblicazioni di diversi tipi non le chiamano output per evitare dire che uno è meglio dell'altro ma possono scegliere da chi lo prendono ok ognuno dovrebbe essere la vera rappresentanza di una è possibile che qualcuno potrebbe essere rappresentato con 5 ma la cifra totale dovrebbe essere 2.5 delle numeri delle persone in dipartimento mi spiace fare questi dettagli perché sono importanti perché passo a fare molti numeri e senza capire questo non si capisce cosa significano questi numeri ok complesso nel parte storia sono del nostro grande carti gli storici britannici che fanno parte di dipartimenti storia in Regno Unito poi i storici non britannici che fanno parte dei uniti di storia nell'università britannica non sono parte è questo importante tutti quelli che insegnano altre unite che sono dedicate a altre discipline quindi in queste cifre non c'è un John foot per esempio ok vorrei stabilire tutto quello prima ok andiamo avanti prima di andare avanti devo darvi questa istruzione per la mia accortezza ok tutto il dato che cita sarà pubblicato sarà pubblicato credo a metà giugno io vi chiedo quindi di non fare foto di non condividere più quello che dico a questo momento del resto di miei idee positivi finché mezza di giugno il lavoro è stato fatto il lavoro sarebbe lì qualcuno potrebbe fare questo lavoro dopo di giugno perché tutti quelli che vi mostro sarà nella sfera pubblica ma a questo punto è ancora non pubblicato è chiesto che mi fa questo favore sono coscio che c'è il screaming sono conscio che c'è il screaming sono anche conscio che probabilmente non lo guardano quelli che sono al capo del ref e speriamo non dirilo eh ok qui vedete cosa vuol dire cioè ok da i numerosi output che abbiamo visto alla commissione ho individuato 50 solo 50 che parlano la storia d'Italia dopo del cioè dopo del periodo napoleonico ok abbiamo 50 pubblicazioni abbiamo di 28 storici di 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 questi solo 8 sono le donne che ho trovato francamente scioccante perché è molto io credo che è molto risolto dal livello che si è ripetuto il campione di storia ci è entrato e queste sono interessanti quando passiamo a vedere le temi abbiamo del numero di unità abbiamo 81 università che si sono entrati in questo esercizio di cui 25 dispongono di una persona che si dà a fare dei output sulla storia moderna italiana ok guardiamo un pochino questi output e cosa ci dicono a proposito di termini ricenti che sono studiati cominciamo così come categorie bisogna direi subito che sono io che ho fatto queste categorie è l'unico modo in cui sono standardizzato e che sono standardizzato all'interno del mio cervello ok e io che ho dato i nomi però più o meno si verrà una cosa probabilmente vicino credo quello che si avrebbe immaginato in termini di come a paragoni di tutta la produzione di storiografia in Inghilterra in Bernardo nel Rani Unito in questo periodo direi che quello politico è più grande però metti conto che questi sono in questo infatti sono riconosciuto quello che ha detto Stefan prima a proposito del predominant del punto di vista appunto di incontro politico in tanti di questi temi anche questi sono temi che sono non strettamente politici tipologici eccetera ok comunque ho messo quelli come politici sociali come più o meno che corrispondono a moralità culturali più come usano come temi come approccio noto per me le cose che sono interessanti che c'è una cosa assente assolutamente assente è che sono storici economici non c'è nessuno questo non mi è sorpreso perché stiamo passando un periodo in cui la storia economica sta proprio morendo a livello anche della storiografia in generale nel regno umido e si potrebbe discutere il perché però è evidente che qui ci siamo raggiunti un livello proprio bassissimo direi anche che in tutti questi studi politici non c'è uno che non parla che si ok non c'è uno nel periodo repubblicano che mi parla delle democrazie cristiane ci sono tanti su partito comunista ci sono tanti su partito fascista durante questo periodo però insomma ce ne sono le lacune enorme e questa è anche una lacuna che ha anche durato anni io non posso nominarvi un libro davvero scientifico con primo focus sulla democrazie cristiana per esempio in inglese scritto in inglese andiamo avanti guardando queste sono ancora categorie che ho fatto io spero che sono abbastanza self explanatory cioè che parlano di se stessi però direi subito che il grande guerra in grande guerra intendo anche fine le crisi dello stato cioè grande guerra l'avvento fascismo e questo è importante perché vedo che c'è il grande guerra c'è poco c'è sempre stato poco direi però c'era prima tanti volumi sull'avvento di fascismo per un motivo o l'altro l'avvento di fascismo in questi anni ultimi anni non è stato visto credo che cambierà perché sappiamo che ci sarà un nuovo libro di foot su proprio quello l'avvento del fascismo il centenario della marcia su Roma eccetera quindi non credo che sia permanente però è notevole a parte quella cosa possiamo dire che l'altra grande cosa che non appare secondo me è il periodo liberale cioè dopo l'unificazione prima della prima guerra mondiale c'è sempre una scarsa di lavoro su questo che a me dispiace molto se parliamo dal punto di vista geografico che è anche un punto di vista un po' di approccio vediamo che le cose per me o meno si vede un po' di cambiamento certo non c'è dubbio che la grande maggioranza parlano di Italia in totale e ho diviso quali tra nazione in cui parlano veramente di realtà sul territorio italiano e stato in cui più o meno parlano di Italia come parlano dell'ambito politico o delle politiche italiane eccetera in cui il territorio non fa parte quanto il discorso ma quello che mi copisce è proprio il numero di questi che sono o trasnazionali o comparativo grande e questo ovviamente è in sintonia con quello che sta suggerendo nel mondo di storia in generale però per me è un aspetto molto positivo si nota anche che l'altra cosa che c'è ci sono più studi che mai su aspetti diciamo coloniali o sulla diaspora uno all'altro e che invece quelli sul diciamo non dire locali ma regionali specifici ce ne sono un po' più che avrai aspettato e la maggioranza sono abitati nel nord che anche non avrai aspettato un pochino in queste cifre che ricordiamo stiamo parlando di pochi out non è che è una grande scelta e c'è da anche dire che due pezzi che parlano del sud parlano del sud ma parlano in modo transnazionale del sud e quindi l'ho messo nel transnazionale per farvi capire che quanto è adesso c'è in questa materia e questo approccio transnazionale ok e questi ovviamente sono categorie anche inventate da me però ti danno vi danno un'idea di delle teme principali dell'argomento principale che vedo in questi pezzi ovviamente l'ho messo insieme tanti pezzi abbastanza diversi per avere un numero di categorie che potrebbe dirci qualcosa non sorprende che ancora abbiamo la cultura in questione di rappresentazione in questo senso dire rappresentazioni culturali rappresentazioni di se stessi rappresentazioni in modo culturale e sull'identità e questo ovviamente è anche la nuova tendenza nella storiografia generale noto il grande numero visto quello che hai detto prima di pubblicazioni sulle genere di questi che in realtà sono nove di cui oltre a parlare soprattutto nell'aspetto femminile è solo uno maschile io credo che in questo probabilmente non è divorziato della scarsa ancora scarsa presenza delle storiche che probabilmente hanno un argomento a fare insomma e vedo ovviamente cose che non si sorprende come la memoria chiaramente la memoria è molto importante nella storia d'Italia e come noi pensiamo su quella storia ok voglio poi passare ad un'altra cosa voglio guardare meno i temi e più i storici ho trovato molto interessante fare questo lavoro si vede che abbiamo una posizione in cui in termini di nascita e devo dire questi sono dati di cui sono personalmente consapevoli oppure colpevoli se ho sbagliato ok non è che con il che scritto ufficialmente dove sei nato però si nota che abbiamo raggiunto il punto in cui questi 28 storici c'è lo stesso numero di italiani lavorando nei dipartimenti di storia ingoltre che britannici quello che si nota anche che si vede più in avanti anche di più che la gran maggioranza si sottone hanno fatto hanno dato l'attesi nel Regno Unito scusami che si spaglia tanto dire inglesi britannico Regno Unito eccetera è un spaglio che mi dà tanto fastidio quando vedo nei giornali italiani però sono abituato a parlarne lo stesso per farmi capire ok però in tutto dico tutto se uso inglesi intendo Regno Unito questo include anche l'anno del nord ok allora abbiamo visto questo che mi pare molto interessante come foto di tutti che sono contenuti in questa campione di persone che sono stati presentati all'esercizio si faccia un po' di più possiamo individuare ancora da dire non c'è nessuna cosa che dici si deve dire quando è consignato il PhD è solo che io ho fatto questo lavoro sui nomi che sapevo che c'era ho diviso in tre generazioni quelle che hanno dato un PhD alla tesi prima del 99 quelle nel prima decadano 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 grazie decadano o decennio decennio va bene ok comunque tra il 200 e il 209 il decennio in quel decennio come in generazione e poi l'ultima generazione questo qui dal 210 in poi che è diviso più o meno in campioni quasi uguali ok si vede quanto è cambiata la situazione no ok all'inizio abbiamo storici nati in Inglaterra in quella generazione più vecchia poi passiamo a una generazione in cui si vediamo entrare storici dall'Europa per poi in quest'ultima generazione abbiamo un grande maggioranza di storici non britannici che insegno o sono preso in questi dipartimenti ok ho messo a parte gli irlandesi perché mi è colpito quanti irlandesi ce ne sono e infatti fanno bellissimi lavori ok ho voluto anche dirvi una cosa se posso andare indietro qui quando ho messo dove sono consegnato le tesi ho messo l'istituto europeo nell'opposizione di essere in un'università europeo e non italiano è importante da dire e credo anche accolato ok si vede qui quando diviso così che abbiamo questo punto che tra le esperienze abbastanza diverse che quella prima generazione hanno tutto consegnato come si avrebbe immaginato la tesi in Inghilterra ma anche quella seconda generazione una generazione che abbiamo visto che è piena di italiani di avviropa eccetera c'era questo periodo in cui insomma sono venuti a studiare nel Gran Bretagna tanti studenti che hanno fatto poi carriera o hanno scelto di fare carriera nella Gran Bretagna nell'ultimo si vede che c'è un gran più diversità nell'ultima generazione di dove sono stato fatto o consegnato la tesi ok insomma cosa questo vuol dire vuol dire che tra i storici italiani che io ho presentato sotto commissioni per la storia nel research exercise framework dalle generazioni più vecchie più di 70% erano nato e più di 80% hanno fatto la formazione a livello dottorale nel Regno Unito invece delle generazioni più giovani 80% erano nati e 50% hanno dato la tesi fuori del Regno Unito in grande diversità ci sono varie spiegazioni potremmo trattini esci tanto di parlare noto quello ovvio che la libertazione del mercato di lavoro nelle paese stavo per dire in paesi europei ovviamente entriamo in qualche discorso difficile qui nei paesi europei in cui quando noi eravamo ancora in Europa anni e abbiamo la libertà del lavoro ma la stessa volta dobbiamo sempre parlare dell'attrazione e della push mi spiace dirlo ma io sono propriamente consapevole che molti di quelli di quelle generazioni diciamo di media che vi ho dimostrato nato fuori dall'inglaterra mi ha consegnato tese in inglaterra molti di loro hanno capito che se fanno tese in inglaterra non c'è altro da fare che continuare in inglaterra perché il mercato in italia è molto molto difficile e lasciamo lì ok c'è poi l'altra cosa di notare è questa proprio la natura trasnazionale della nostra disciplina e la possibilità di incontrarci molto di più attraverso tantissimi canali siamo e dovremmo essere fiero di essere molto più unito come disciplina al livello internazionale e transnazionale che prima allora ci sono tanti benefici di quello che vi ho dimostrato benefici che gli storici italiani nati in Italia sono capaci a fondere a creare spazi significativi in altri luoghi del sistema universitario come quella del Regno Unito e quindi di partecipare come partecipanti nella storiografia cosiddetta britannica della storia italiana che per le università la loro ricerca ovviamente è di alta qualità beneficia della facilità con le lingue beneficia della possibilità e questo perché dico per le università del fatto che per le ricerche si deve pagare e si non deve pagare per quelli che vanno in Italia all'oggiarsi con famiglie eccetera ovviamente per l'università c'è un risparmio c'è anche poi una progettività che è difficile fare per quelli del Regno Unito e c'è un altro ovviamente beneficio che gli studenti britannici sono stati istruiti di quali hanno una conoscenza davvero profonda stedimentato di qualcuno che è cresciuto in Italia che capisce proprio tutta la ricerca e una cultura profonda italiana va bene tutto questo è molto positivo ci sono delle conciere magari ok cominciamo con quello ovvio esiste ancora una storiografia britannica d'Italia non lo so magari magari quello dell'occhio di cui ha parlato Elizabeth prima però questa è anche una storiografia di cui credo che siamo un po' sin enti altro abbiamo avuto un'ampia produzione già è quello che ha detto è giusto ampissimo magari troppo allora importa importa che c'è ancora una storiografia britannica o no non proprio non sono sicuro si me ne importa neanche però c'è una cosa che mi importa un pochino ci sarebbe ancora una possibilità perché qualcuno come io che arriva a Bologna adesso senza sapere un parola di italiano si fa studiare un pochino ad Hawkins e con nessuna consapevolezza neanche della storia italiana a farsi lavorare a ottenere il dottorato e il posto nell'università sarà direi molto molto più difficile e mi fa un po' paura che nel tutto questo bene delle mescolanze c'è anche questo problema di come possiamo nutrire una generazione nostrana ok finisco devo dire non sono facendo argomenti tipo Brexit voglio dire questo molto chiaro sono totalmente contrario ma si fa pensare un pochino guardando a queste cifre com'è la situazione e cosa adesso pensiamo esiste come storiografia britannica ok grazie tantissimo grazie mille a Jonathan Morris per questa analisi anche di tipo quantitativo molto originale e stimolante e grazie anche per le anticipazioni che ci ha fornito in anteprima assicuro per tutti la riserva tetta grazie ora arriviamo all'ultimo intervento di questa prima sessione del pomeriggio Jens Spett che è docente di storia moderna e contemporanea all'Università dell'Università dell'Università dell'Arlandes e i suoi campi di ricerca avvertono sulla storia dell'Europa meridionale e occidentale sulla storia costituzionale e politica e su quella del movimento operaio tra le sue pubblicazioni segnalo Revolution in Europe 1822-1823 Verlag 2012 Death's Generation Matter Progressive Democratic Culture in Western Europe Macmillan 2018 prego Jens grazie Giulia Guazzalocca per la presentazione e buonasera a tutti vorrei prima di tutto ringraziare certamente gli organizzatori di questo convegno per l'invito qui a Bologna ci ho pensato adesso un attimo anche per qui per me si chiude un cerchio un certo cerchio accademico qui perché nel 2004 ho fatto qualche ricerca per la mia tesi di laurea e adesso quasi più di 15 anni dopo ho concluso la mia tesi di abilitazione sempre sulla storia italiana tra l'altro quindi sono un po' perso per la storia italiana ma comunque ne siamo tutti e quindi mi sento in buona compagnia il compito che mi è stato assegnato non è facile una rassegna della storiografia di lingua tedesca sull'Italia contemporanea e fortunatamente mi aiuteranno cinque colleghe e colleghi di trattare questo argomento in un modo più specifico nei prossimi giorni se entriamo nella materia ci viene subito in mente la tesi di Gian Enrico Rusconi sull'alienazione strisciante tra l'Italia e la Germania dopo il 1989 uno sguardo attento alla storiografia tedesca invece suggerisce il contrario possiamo reclamare direi che la storia e la società italiana degli ultimi due secoli siano diventate un campo di ricerca stabilita non direi preferita della storiografia tedesca contemporanea che non solo ha allargato l'orizzonte ben oltre il fascismo ma applica sempre di più metodi di storia comparata e di transfert culturale un'intera generazione di storici germanofoni specializzata in storia italiana contemporanea è già andata in pensione se pensiamo a Wolfgang Schida e concludiamo adesso con Hans Woller altri studiosi e istituti perseguono la ricerca sull'Italia di cui sono presenti alcuni non bisogna fare il nome molti titoli di giovani studiosi tedeschi austriaci o svizzeri vedono la luce nelle colane italien india moderna e italien in geschichte e gegenwart nelle riviste Quellen con forzioni e forzioni di archivi e biblioteche anali dell'istituto storico italo-germanico in Trento e Zibaldone nonché in altre pubblicazioni degli istituti germanici a Roma e a Trento è impossibile parlare di tutto questo in 25 minuti e perciò mi limiterò alle monografie soltanto che hanno visto la luce negli ultimi dieci anni circa grazie a Gabriele Clemens e Lutz Klinkham posso anche saltare l'epoca del risorgimento e del fascismo qui perché ci parleranno di questo con grande competenza domani vi propongo dunque di dare un'occhiata alla storiografia tedesca sull'Italia contemporanea in cinque passi primo vi presenterò brevemente qualche sintesi sul periodo in considerazione in secondo luogo vi parlerò dei lavori sull'Italia liberale e la prima guerra mondiale poi farò un salto nell'Italia repubblicana in un quarto passo attirerò la vostra attenzione su opere tematiche di lunga durata e alla fine vorrei chiedere qual è il posto dell'Italia contemporanea negli studi recenti di lingua tedesca per quanto riguarda lo spazio europeo per non ricadere sempre sui libri classici che potete vedere di cui potete vedere alcuni qui Volker Reinhardt o Wolfgang Altgeld Rudolf Lill ormai un po' sorpassati si potrebbe essere tentato di leggere la sintesi di Gerhard Feldbauer che copre per la prima volta in lingua tedesca solo l'epoca contemporanea ma chi lo farà sarà probabilmente deluso perché la narrazione di Feldbauer vecchio funzionario della Repubblica Democratica tedesca continua a vedere il mondo da una prospettiva comunista ortodossa che include anche varie teorie di cospirazione no meglio non ricorrere a queste pagine e piuttosto avere ancora un po' di pazienza affinché sarà uscita la sintesi di Christian Janssen e Oliver Janssen sulla storia italiana da Napoleone fino a Berlusconi ormai annunciato per il 2024 tuttavia chi vuole informarsi seriamente in tedesco dell'Italia contemporanea all'altezza dello stato dell'art non deve disperare per l'ottocento disponiamo da pochi mesi della prima monografia scientifica sulla storia del risorgimento dovuta alla penna di Gabriele Clemens frutto di più di vent'anni di ricerca il libro preferisce una cronologia che lascia pensare col suo punto d'inizio le riforme illuministiche negli anni 70 del 700 al libro di Gilles Pecou Nessance de l'Italie contemporanea del 97-2004 nel suo nuovo libro Gabriele Clemens critica la prospettiva limitata della storia culturale e si esprime a favore di approcci di storia sociale e economica mettendo a questione la mobilizzazione delle masse risorgimentali tramite l'arte la musica o la letteratura soprattutto prima del 1848 inoltre suggerisce di non occuparsi di occuparsi più della nobiltà ed è notabili per quanto riguarda le elite italiane e di non applicare letteralmente la terminologia della scuola di Bielefeld sulla storia della borghesia infine Gabriele Clemens ci presenta il cammino verso lo stato nazionale italiano come opera di elite che passarono parecchio tempo in esilio e che agirono spesso in reti sociali transnazionali anche per il novecento italiano i lettori tedeschi si possono informare in modo approfondito il libro di Hans Voller pubblicato nel 2010 è diventato subito un'opera di riferimento perché riassume in modo eccellente la storiografia tedesca italiana e angloamericana sull'Italia nel ventesimo secolo ma propone anche interpretazioni autonome e accenti nuovi preferendo la storia politica sociale e economica Voller sottolinea il ruolo importante dell'economia pubblica che distingui l'Italia da altri paesi occidentali analizza criticamente le categorie del imperialismo della guerra e del razzismo nella storia italiana e presenta la storia repubblicana dal 1946 come successo a livello politico e socio-economico malgrado tutti i problemi strutturali che esistono nel bel paese accanto dell'opera di Voller i libri di Christian Janssen e Friederike Haussmann già un po' più vecchi del 2006-7 rimangono contributi validi sulla storia italiana del secondo dopoguerra Janssen presenta una bella sintesi di storia politica sociale e culturale raccontando allo stesso tempo fenomeni meno conosciuti in questo tipo di pubblicazioni come il ruolo fondamentale della famiglia i cantautori la politica estera nonché il trasformismo grazie a questi libri di Gabriele Clemens Hans Voller Christian Janssen e anche di Friederike Haussmann i lettori tedeschi si trovano nella comoda situazione di poter ignorare opere sull'Italia contemporanea motivate da ideologie che non contribuiscono all'innovazione storiografica vengo ai lavori sul regno d'Italia anche se la ricerca tedesca dell'Italia contemporanea si è concentrata in una buona parte su aspetti della dittatura fascista come ci racconterà Lutz Klinkham a domani sarebbe sconsiderato di non rendersi conto di tutte le pubblicazioni di lingua tedesca su altri argomenti dell'Italia contemporanea uscite negli ultimi anni un primo gruppo di studi recenti sulla storia dell'Italia liberale contribuisce al nation building nello Stato nazionale a quello che Umberto Levra scomparso sei mesi fa ha chiamato farli italiani da segnalare in questo contesto sono tre libri tutti tesi di dottorato il primo di Magit Pansbach qui a sinistra si dedica in prospettiva comparata ai simboli e alla politica dei monumenti in Italia e Germania prima e dopo la fondazione degli stati nazionali analizza i punti comuni i legami ma anche le differenze tra i simboli e le intenzioni dei loro mecenati il secondo studio di Camilla Veva qui a destra tratta la rappresentazione di Camillo Gravur nei libri scolastici dell'Italia liberale esaminando materiali didattici dalle scuole elementari fino ai licei inclusi libri per bambini e giovani il terzo libro affronta un altro eroe nazionale analizzando in modo sistematico il mito di Giuseppe Garibaldi negli anni 1882 fino al 1948 Jessica Ratzman-Grie parte dal presupposto che i diversi schieramenti politici utilizzarono il mito del eroe Giuseppe Garibaldi per legittimare le loro opinioni e obiettivi politici facendo ricorso alla figura di Garibaldi per affrontare la questione della partecipazione politica e del rapporto tra popolo e potere un secondo gruppo di pubblicazioni si concentra sulla storia delle idee in senso largo Francesco Marin qui a sinistra si occupa della ricezione del modello universitario tedesco nell'Italia liberale punto focale dello studio sono le esperienze maturate dai numerosi studenti italiani nelle università tedesche nonché il desiderio di invocare l'autarchia della propria scienza nazionale un'altra ricerca con un approccio rivolto all'analisi del discorso esamina l'anticatolicesimo italiano e tedesco dagli anni 1830 fino alla prima guerra mondiale in un'ottica comparata Manuel Brutta di cui vedete la copertina qui a destra sostiene che perlomeno per il Piemonte sia possibile parlare di un culturekampf di tipo prussiano secondo l'attore in entrambi i paesi i liberali coltivavano una rigida visione del mondo anticattolica puntelata da vigorose contanne soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento mentre i lavori presentati finora sono nati da tesi di dottorato troviamo anche un'opera al di là delle esigenze accademiche e una tesi di abilitazione Ulrich Virwa grande esperto della storia ebraica europea del lungo ottocento ha pubblicato un libro sulla nascita dell'antisemitismo nell'impero tedesco e nell'Italia liberale la sua analisi comparatistica si svolge attorno a quattro assi prima la nazione come campo di conflitto con le associazioni nazionaliste a Berlino e Firenze secondo l'antisemitismo dei piccoli commercianti a Berlino e Milano terzo l'antisemitismo accademico a Bologna e Heidelberg e infine la stampa ecclesiastica a Venezia e Preslavia Ruth Nathamann invece di cui vedete la copertina a destra nella sua tesi di abilitazione uscita due anni fa esamina la partecipazione ebraica al movimento italiano delle donne in un'ottica transnazionale e basata su un vasto corpo di fonti Nathamann si concentra sulle esperienze delle protagoniste ebrei italiane nello stato unitario liberale durante la prima guerra mondiale e sotto la dittatura fascista l'obiettivo dello studio è quello di evidenziare le tensioni tra adesione e distinzione emerse durante il processo di emancipazione da pochi mesi disponiamo anche del primo studio di lingua tedesca sulla storia coloniale italo-tedesca Nicola Camilleri qui a sinistra mette a confronto il concetto della cittadinanza e il razzismo in Eretria e nell'Africa orientale tedesca ambe due i territori furono colonizzati allo stesso tempo negli anni 1880 da due potenze coloniali tardive a titolo di paragone europeo l'autore fa particolarmente attenzione alla popolazione locale di questo spazio tra l'Europa e l'Africa per quanto riguarda invece la storia delle emozioni almeno tre lavori tedeschi hanno ripreso questa tendenza il primo in ordine cronologico è Morris Buchner qui a destra che ha scritto una storia del lutto dell'Italia liberale col titolo avvincente perché piangere l'autore analizza in cinque passi la razionalizzazione della morte l'emotività della perdita le norme del lutto la moralizzazione delle emozioni e le topografie del lutto col suo libro Buchner anticipa cronologicamente lo studio del suo relatore di tesi Oliver Jans che già nel 2009 ha pubblicato la sua tesi di abilitazione sul culto dei caduti della prima guerra mondiale in Italia qui a sinistra invece un altro allievo di Jans prosegue l'argomento cronologicamente nella sua tesi di dottorato pubblicato nel 2015 Pierluigi Pironti analizza in prospettiva comparata l'assistenza alle vittime della prima guerra mondiale in Italia e Germania dunque il connesso tra la prima guerra mondiale e il regno d'Italia c'è nella storiografia tedesca anche se dobbiamo constatare che il centenario come diceva giustamente già Stefan Murland ha lasciato poche tracce nei lavori storici recenti forse tranne quelli di Rolf Steininger Oswald Überhecker e in un contesto più ampio Brigitte Mazzol che si occupano del carcere particolare dell'Alto Adice saltiamo il ventennio fascista e veniamo subito all'Italia repubblicana se contiamo le monografie scientifiche di lingua tedesca su questo periodo arriviamo a una cifra di almeno 15 lavori pubblicati nell'ultimo decennio possiamo sistemare queste pubblicazioni in sei gruppi il primo gruppo si dedica della lunga eredità del fascismo e dell'occupazione tedesca dell'Italia Verena Kummel qui a sinistra paragona la battaglia della memoria attorno ai cadaveri rubati di Benito Mussolini e del maresciallo Petain in Italia e Francia mentre Felix Boh qui al centro esamina la lobby dei criminali di guerra arrestati all'estero nella Repubblica federale tedesca mettendo al centro il caso di Herbert Kapla nonché quello dei quattro di Breda Aram Mattioli invece studia i discorsi sul fascismo dei governi Berlusconi e ne vede una rivalutazione significativa del fascismo nei decenni attorno al 2000 un secondo gruppo di studi tratta della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale la democrazia degli elettori a livello comunale in Italia e Germania sta al centro della tesi di dottorato di Claudia Gatzka qui a sinistra che fa particolarmente attenzione alla comunicazione politica la ricostruzione dal punto di vista della storia economica invece e l'argomento della tesi di dottorato di Christian Krabas riallacciando a un lavoro di Rolf Petri forse alcuni di voi lo conoscono pubblicato nel 2001 contesta l'opinione dominante secondo la quale la politica industriale italiana fosse stata irrelevante e senza effetti un terzo gruppo di studi si concentra invece sui partiti e movimenti politici sia la nuova destra cioè l'alleanza nazionale e il suo cammino verso il centro politico esaminata da Marcus Grimm qui a sinistra sia il partito comunista italiano che ha trovato l'interesse di due tesi di dottorato recenti prima in veste dell'erocomunismo come sfida di sicurezza per gli Stati Uniti e per la Repubblica federale tedesca di Nikola Störr e secondo i discorsi e le posizioni del PGI per quanto riguarda la questione tedesca tra il 1945 e il 73 di Francesco Leone poi abbiamo il quarto gruppo attorno alla storia italiana del movimento studentesco e del terrorismo dobbiamo menzionare almeno il libro di Matthias Kirchner sulla riforma universitaria e la rivolta degli studenti tra il 58 e il 74 qui a sinistra quello di Tobias Hoff sul rapporto tra Stato e terrorismo tra il 69 e l'82 e infine il grande studio di Petra Terhofen sul terrorismo di sinistra come fenomeno europeo transnazionale di cui ci dirà sicuramente di più sabato mattina coerentemente alla tendenza globale della nuova labor history e in parte anche della storia della migrazione due tesi di dottorato tedesche freschissime rivolgono l'attenzione alla storia del movimento operaio in Italia mentre Olga Spascio qui a sinistra paragona la migrazione per motivi di lavoro italiana a Torino e Monaco di Baviera tra il 1950 e il 75 Dietmar Lange analizza le condizioni di lavoro nonché i conflitti sindacali presso la fabbrica della Fiat Mirafiori negli anni 60 e 70 infine anche la storia culturale dell'Italia contemporanea ha trovato qualche eco nella storiografia tedesca recente soprattutto il cinema italiano attira l'interesse di storiche e storici da menzionare in questo contesto le tesi di Antje Dechert sul cinema e i discorsi sul corpo tra il 1930 e il 65 e di Lucas Sheffa sulla cultura del film non conformista in Italia e Germania dopo la seconda guerra mondiale se vogliamo parlare degli studi tematici di più lunga durata bisogna almeno brevemente fare il nome di alcuni autori che si sono occupati di questi temi cioè prima di tutto i libri su Napoli di Catarina Siebenmorgan e Salvatore Pisani nonché di Dieter Richter il primo studio in lingua tedesca su Roma in epoca contemporanea di Franz Power qui a sinistra o la tesi di dottorato di Gat Fespa sulla storia della scuola germanica di Roma un altro libro invece merita due frasi di più parlo della somma di mezzo secolo di studi storici sull'Italia contemporanea che ha presentato Christoph Tippa cinque anni fa in un volume monografico raccogliendo articoli parzialmente già pubblicati ma aggiornati e parzialmente nuovi che coprono tre secoli a partire dal giacobinismo fino ai giorni nostri modificando la tesi di Rosconi e utilizzando il concetto di vicini distanti Dippa riflette sui problemi della modernità per la storia si esprime decisamente contrario a una vista di storia parallela tra stato e società tedesca e italiana nell'8 e 900 perché secondo lui la storia comparata rivela sempre più asimetrie e differenze e non somiglianze o punti comuni tra questi due paesi vengo vengo brevemente al mio ultimo punto cioè la domanda quale ruolo l'Italia contemporanea gioca nella storiografia europea di lingua tedesca vorrei avvicinarmi a questa domanda complessa accenando solo a pochi lavori recenti che vanno ben oltre al paragone italo-tedesco ci sono due tesi di abilitazione che trattano tre casi nazionali non limitandosi all'approccio comparativo ma invece applicano i metodi del transfer e dei rapporti transnazionali creando uno spazio europeo-occidentale Malte König esamina in tale modo l'abolizione della prostituzione regolamentata in Francia Germania e Italia nel novecento evocando l'immagine avvincente dello Stato come protettore chi parla invece ha analizzato in un modo prosopografico come socialisti italiani tedeschi e francesi hanno affrontato il fascismo e il nazionalsocialismo tra il 1919 e il 60 circa il lavoro dovrebbe uscire l'anno prossimo nella collana dell'Istituto Storico Germanico di Roma Folkaselin ha presentato due libri in cui si occupa sia del rapporto tra violenza e legittimità per quanto riguarda le monarchie nell'epoca delle rivoluzioni sia delle restaurazioni nell'Europa dell'Ottocento in ambe due lavori l'Italia gioca un ruolo forte e importante lo stesso vale anche per le sintesi sulla prima e seconda metà dell'Ottocento europeo di Andreas Fahmeier e di Johannes Paulmann nonché per le due grandi opere di Willibald Steinmetz e di Christoph Cornelissen sulla storia europea dell'Ottocento e del Novecento che cosa possiamo concludere da questa presentazione velocissima di quasi 50 opere pubblicate negli ultimi ben 10 anni possiamo dire che la storiografia tedesca sull'Italia contemporanea è molto vivace e variegata possiamo anche osservare che nei lavori presentati rispecchiano quasi tutte le tendenze e tutti i temi della storiografia globale attuale siano approcci di storia politica economica sociale o culturale di storia coloniale della violenza o del genere nonché prospettive di storia comparata e di transfer culturale possiamo infine constatare riprendendo il concetto rusconiano dell'allineazione strisciante che secondo me i legami tra storiche e storici italiani e tedeschi e anche oltre questo concetto molto nazionale sono più intrecciati che mai spero di aver dimostrato che la storiografia di lingua tedesca sull'Italia contemporanea degli ultimi dieci anni abbia dato un modesto contributo a riflessioni storiografiche più generali che sono state evocate da Fulvio Camarano nell'introduzione ma anche di Elisabeth Slick di Stefan Morland e di Jonathan Morris e per questo riguardo la fine e vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie molto davvero anche a Jan Speth per questa curata e densa direi relazione sulla storiografia tedesca allora credo che ci sia un po' di sparte o non moltissimo perché c'è un'altra sessione per il dibattito io mi limito a ringrattare davvero tanto i nostri relatori per l'ampietta e la ricchetta dei loro contributi ne è emersa credo la presenza di una storiografia internazionale sull'Italia abbondante vitale fluida variegata sono aggettivi che ho tratto dalle relazioni al tempo stesso i nostri relatori ci hanno detto che esistono delle lacune delle assente ci sono livelli differenziati di analisi anche solo la storia fatta dai professionisti dagli accademici e quella di taglio più divulgativo c'è il rischio della frammentazione della dispersione tematica quindi i contributi di questo pomeriggio rimandano un quadro complesso e stratificato lontano dalle semplificazioni e dagli stereotipi che evocava Fulvio Camarano nell'introduzione io non voglio togliere appunto spazio al dibattito mi limito a sottolineare tre aspetti tre punti mi sembra ricorrenti nelle quattro presentazioni sarebbero molto di più ma quelli che mi hanno colpiti innanzitutto l'ampietta e la varietà dei temi e dei periodi trattati finalmente siamo andati oltre i soliti noti come diceva Elisabeth il risorgimento Garibaldi il fascismo la mafia ci sono ancora ma in un quadro molto più ricco c'è un interesse mi sembra convergente di questi studiosi gli studiosi stranieri di cui ci siamo occupati oggi verso la storia sociale culturale dei consumi del costume ma sopravvive anche la storia politica sopravvivono la storia politica e la storia istituzionale forse meno negli Stati Uniti ma in Gran Bretagna Germania e Francia sicuramente sì la grande assente alla storia economica mi dispiace per il collega e amico Michele Alacevic che è qui con noi che è neorappresentante ma sembra che è destinato a rimanere da solo e infine l'ultimo punto che mi sembra ritorni e lo dico con soddisfazione Fulvio prima parlava della nostra scuola fondata da da Paolo Pombeni della storia politica comparata e c'è in tutti insomma tutti i relatori hanno parlato di quest'ottica transnazionale comparata una prospettiva insomma larga di analisi della storia italiana che al tempo stesso però non va a cercare eccezioni o modelli in positivo o in negativo né formula gerarchie quindi è una comparazione che come mi è stato insegnato da Fulvio e da Paolo tanti anni fa insomma serve ad arricchire a capire meglio il passato io taccio e chiederei se ci sono domande abbiamo il microfono prego salve grazie 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 mille per questi interventi che mi hanno veramente molto molto interessato e che credo quando ci sarà una pubblicazione sarà un contributo molto interessante io tu hai fatto una sintesi perfetta ma volevo ma volevo fare due domande la prima è ovviamente come te e come tutti abbiamo visto questa tendenza a una storia dell'Italia in prospettiva comparata e trastazionale che diciamo non solo grazie a Paolo l'Italia si è sviluppato molto ma in tanti altri paesi ovviamente e io ne ho fatto anche quindi quello che dirò non è per fare una critica anzi ma la domanda che mi faccio forse è troppo troppo focalizzato sul caso francese quale come dire il rapporto tra questa prospettiva scientifica giusta legittima e il fatto che noi almeno in Francia non ci sono più nel job market posti non nei dipartimenti di italiana come tu hai parlato per l'America ma nei dipartimenti di studio di storia non c'è più io parto in pensione il primo settembre non ci sarà un posto di storia dell'Italia e parlo di fronte ai miei amici colleghi francesi credo che non ci sono più né i dipartimenti di storia non parlo né i dipartimenti di italiano quindi la domanda è questa mi faccio la domanda forse faccio la domanda ai colleghi che sono intervenuti qual è il rapporto tra la dimensione scientifica pura molto interessante e in vincoli oggettivi che per esempio per darvi un'idea chiudo su questo perché veramente è una riflessione che mi faccio se io dico ai studenti di fare una tesi solamente sull'Italia è morto è morto in termini di carriera accademica nei dipartimenti di storia quindi ovviamente non solo approfittando di questa dimensione scientifica cerchiamo di dare un titolo di tesi o diciamo un argomento di ricerca che non è solo focalizzato sull'Italia capisce capite quello che cerco di identificare e questo è un rischio anche è un po' un rischio di non avere più solamente un specialista diciamo tra virgolette in tante virgolette puro dell'Italia ma mi faccio la domanda la seconda riflessione e domanda è su che tipo di rapporti nei vostri paesi in America in Italia secondo me è un caso appunto esattamente l'opposto in Germania tra storie e scienze sociali cioè tra storie e scienze politiche sociologia antropologia eccetera nel caso britannico che conosco perché segue molto le attività dell'ASMI e leggo Modern Italy per le ragioni che hai detto Jonathan c'è quasi un'interdisciplinarità molto forte non l'ho percepita bene nel caso americano e nel caso tedesco se potete darci un po' più di informazione siamo in una storia comparata trasnazionale molto attiva ma richiusa su se stessa o che si nutrici di un dibattito un dialogo con per esempio la sociologia l'antropologia o la scienza politica scusate dell'intervento un po' lungo no grazie mille professore Lazaro un po' desolante la sua prospettiva in pratica in Francia fanno comparazione perché per dare un futuro agli studiosi non solo però altrimenti solo sull'Italia non l'avrebbero allora io invito Elisabeth Jensen insomma chi vuole venire a rispondere o ci sono altre domande ci sono altre domande magari ne raccogliamo Paolo prego venite qui allora a fare domande ne raccogliamo un po' e poi invitiamo i relatori io credo che Mark ha posto una questione importantissima perché non ci sono più posti per storici adesso a prescindere dal problema storico dell'Italia non ci sono più in generale i posti per storici stanno diminuendo in tutto il mondo perché noi non sappiamo difendere la nostra disciplina io mi permetto di dire non per difendere le cose che ho fatto io mi permetto di dire che questa culturalizzazione della storiografia la rende ovviamente una cosa scarsamente rilevante voi avete visto c'è una guerra in corso che è una tipica guerra storica no un sacco di problemi storici eccetera a chi si chiedono informazioni analisi a chiunque tranne che agli storici quando lo chiedono agli storici dopo che ti hanno fatto l'esame vuoi fare un caso personale dicono ma forse è meglio prendere un altro perché non dice le cose che sono veramente interessanti però ci vuole il geopolitico ci vuole l'opinionista ci vuole altre cose giustamente Fult ha fatto una riflessione che vale per molti dei paesi la carenza di studi sui partiti cattolici la democrazia cristiana non è stata una grossa enorme esperienza solo in Italia lo è stata anche in Germania in Germania molto più a lungo di quello che in Italia è vero che la CDU da un certo punto in avanti non è più stata un partito cattolico però anche su questo si potrebbe lavorare in Francia questa esperienza come sapete è finita con il golismo dopo il 58 non esiste più no nel momento in cui noi stiamo riflettendo su un problema di rimettere in piedi l'Europa non c'è una domanda di storia solidale tra gli storici europei di storia nazionale solidale per dire ma che cavolo di Europa volete costruire se noi non siamo capaci di fare una storia dell'Europa che non vuol dire una storia comparata nel senso banale di mettere insieme un po' di roba per vedere dove ci sono differenze e similitudini ma vuol dire mettere insieme gli stessi problemi perché il problema vero della storiografia oggi è che la storiografia è una storiografia senza problemi io lo dico per il campo di cui mi occupo io gli altri campi dicano che chi è più competente di me chi si pone oggi il problema della costruzione del consenso politico in senso forte del rapporto tra la cultura nazionale e la costruzione del consenso politico le dinamiche di formazione dell'interscambio politico che per un certo periodo sono state sui partiti per altri periodi non ci sono più ecco queste sono domande sulle quali si interroga la storiografia e la storiografia riesce a imporsi io sarò cico non lo vedo molto ma credo che proprio un'assemblea come questa debba porsi questa domanda perché questa domanda è una domanda che non interessa a chi si occupa di storia d'Italia o chi si occupa di storia della Germania questo interessa a tutti quelli che si occupano di storia perché il problema è esattamente questo è il problema del senso del nostro mestiere ma questo mestiere ha qualcosa da dire a parte la ricostruzione antiquaria del passato o come potete dire lo scartabellare nelle fonti per vedere se è una volta anche una volta abbiamo parlato delle donne delle prostitute degli emarginati di questo e di quell'altro questa non è storia secondo me questa è proiezione archeologica di quello che noi pensiamo di quello che noi pensiamo oggi nel tentativo di nobilitare alcune tematiche ma la storia non può essere la nobilitazione di alcune tematiche scusate questa franchizza grazie mille Paolo per le tue insomma pessimistiche ma giuste osservazioni altri interventi prego Raffaella sì perché sennò così ti inquadrano e ti sentono non vorrei entrare nel merito della provocazione di Paolo e quindi mi limito a due domande una a Elisabeth Link io non sono un'esperta di storia italiana quindi una prospettiva esterna però occupandomi di Stati Uniti mi ha molto colpito il fatto che non ci sia stato un riferimento a quello che era uno dei pochi campi di interesse anche di interazione tra storiografia italiana e storiografia americana che è il tema dell'immigrazione italiana che negli anni 70 80 ha avuto anche esponenti di primo piano insomma è uno dei pochi settori in cui c'era effettivamente una una capacità di interazione tra ricerca italiana e ricerca statunitense e appunto la domanda è se questo si spiega con le due questioni uno quello del transnazionalismo che evidentemente cambia un po' le prospettive l'indagine e l'altra la svolta culturalista che non è una svolta però questo lo devo dire senza problemi il punto è quali sono le domande quali sono i soggetti che fanno la storia e quali sono i problemi che fanno la storia e probabilmente i problemi di oggi sono un po' diversi da quelli di vent'anni fa la seconda questione è proprio sul tema del transnazionalismo e lo dico da una prospettiva che è quella di chi fa ricerca dentro l'ambito americano a me pare e questo è vero anche soprattutto per quello che riguarda ad esempio la grande questione dei movimenti transnazionali delle donne e che questa categoria di transnazionalismo spesso non viene reinterpretata e la mia domanda è in che modo viene reinterpretata e se viene reinterpretata prendendo in considerazione come dire soggetti diversi dal punto di vista nazionale transnazionalismo ma per esempio anche una categoria come quella della storia atlantica o della storia transatlantica in cui in realtà questo atlantico è sempre connotato da un certo punto di vista e per esempio l'Europa meridionale non entra mai dentro a questa prospettiva grazie bene grazie Raffaella Baritono prego brevemente forse una provocazione ma sarebbe una risposta a Mark Lazaro e altri colleghi che sono pessimisti io penso che bisogna avere un po' di inventività quando abbiamo dei ragazzi che vogliono fare una tesi di dottorato e inserirli nelle grandi questioni che sono di moda di moda anche nei media dunque storia delle donne storia delle minoranze colonialismo Shoah e bisogna inserire quello che vogliono fare in queste grandi questioni e hanno forse la possibilità di fare una pubblicazione di intervenire nei media e in qualche modo di valorizzare la storia e dunque naturalmente se qualcuno vuole assolutamente fare una tesi su un punto molto preciso è difficile ma bisogna pensare che l'avvenire degli storici è anche una questione di moda marketing certo giusto Fulvio? allora insomma ci sono diverse questioni tanto lo sapevo che finiva così e poi alla fine sarà un dramma sarà un convegno sarà un dramma abbiamo anche un'altra sessione però è tra un po' ma tiene aperto anche tutta la notte la provocazione di Paolo è giusta però Paolo è testimone del fatto che da molti anni è così non può dimenticare non può dimenticare che anche 10-20 anni fa Pomenia era il politologo e dunque che la storia ha perso il ruolo il peso politico che aveva molti anni fa è un fatto ormai acquisito da molto tempo io sul problema delle domande che facciamo la storia che poi significa la storia sono sempre molto laico cosa vuol dire vuol dire o individuiamo una specie di spettere che sposta le grandi tematiche con qualche finalità che mi sfugge oppure dobbiamo prendere atto che le domande che l'attuale società e l'attuale epoca fa alla storia sono quelle che sono in corso se la storia è sempre storia del presente è ovvio e immagino che cultura materiale ambiente genere sono entrate sulla scena in maniera violenta e interpellano gli storici credo inevitabilmente poi come si fanno queste domande che tipo di storiografia si porta avanti è un altro discorso però dire bisogna fare questo tipo di domanda e non quest'altra io immagino che anche a suo tempo non sarebbe sopravvissuto a molte delle domande che si faceva anche i pombeni negli anni negli anni 70 e 80 no alcune non tutte certamente quella è una scuola è un tipo di riflessione quel tipo di comparazione far mettere al centro le differenze attraverso lo studio è fondamentale io sono testimone sono partito giovanetto armi e bagagli per Oxford per studiare il partito conservatore inglese come modello e dopo tre giorni era un progetto fallito perché il punto è non solo che non c'era un modello ma quei temi lì erano sorprendentemente i temi cui si discuteva nell'Italia dell'ottocento identici e dunque mi è stato subito chiaro quello che dicevamo della comparazione proprio sul campo per quanto riguarda Mark a me viene a dire una cosa un po' prosaica cioè noi dobbiamo distinguere tra l'internazionale della storiografia che siamo noi e il fatto che i posti vengono distribuiti dalla politica cosa vuol dire vuol dire che dare dei posti all'università nell'accademia e per fare questo bisogna rispondere a dei come dire a dei parametri dei requisiti che non hanno solo a che fare con l'interesse poi è chiaro che si coltiva un interesse dentro la nazione io non ho dubbi ma perché non si trasformano in posti a che fare con la persistenza dello Stato nazionale dell'identità nazionale della cultura nazionale delle classi dirigenti nazionali che ovviamente rispondono politicamente a un elettorato c'è dentro una dinamica che è questa che è culturale profonda ma che rinvia la politica io non credo sinceramente che uno storico francese di fronte a un lavoro di particolare pregio che riguarda la storia italiana abbia delle difficoltà a pensare che è di valore che quella persona possa entrare nel circuito accademico francese semplicemente culturalmente non interessa perché a un certo punto bisogna rispondere dei posti distribuiti questo avviene anche in Germania se non sbaglio è molto difficile per gli italiani entrare nel circuito accademico perché non certo ci sono molti italiani che vivono in Germania che non entreranno nel circuito accademico perché a mio avviso c'è non si saprà e non si dirà mai però una sensibilità che io chiamo genericamente politica rispetto a questo tema e questa era la mia riflessione grazie grazie a Fulvio Camarano ci sono altri interventi allora prego Stefano mi farei rispondere no non faccio rispondere se vogliono rispondere cercherò di essere breve io sollevo faccio un quesito ai colleghi che hanno fatto le rassegne ponendo questo 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 problema premesso che io credo nella transnazionalità credo anche nell'interdisciplinarità come un aspetto importante per la mia esperienza negli ultimi anni anche come valutatore mi sono posto la domanda se questa insistenza un po' anche alla moda su transnazionalità e interdisciplinarità non produca una riduzione della capacità di studiare approfonditamente alcuni ambiti di storia alcuni ambiti nazionali mi è capitato di dover fare adesso non posso entrare nei dettagli però vi ragione di riservatezza di vedere proposte transnazionali in cui però la conoscenza dei vari paesi non si basava sulla conoscenza della lingua e delle fonti ma era mediata allora questo secondo me può portare a due conseguenze da una parte abbassa la professionalità degli storici in generale rispetto a singoli campi di ricerca e dall'altro tende a privilegiare carriere che spingano sulla transnazionalità non tenendo conto e non avendo consapevolezza di cosa dell'importanza dei campi degli oggetti nazionali che vengono presi in esame e sull'interdisciplinarità da cui mi è stata anche una volta rinfacciata quindi non sono diciamo in tema di mi sono spesso chiesto se l'insistenza ossessiva sull'interdisciplinarità non possa portare anche qui a una riduzione del sapere disciplinare che resta la base sulla quale noi costruiamo i saperi interdisciplinari questo è particolarmente evidente in un paese come l'Italia in cui questa cosa viene spesso richiesta nei progetti salvo poi essere bastonati dai referi mi chiedo se questo abbia un impatto anche sugli altri paesi ricordo un articolo che parlava per esempio della Dolce Fortschruss Gemeinschaft e del fatto che alcune discipline minori venivano messe un po' in secondo piano e si discuteva sul loro ruolo dentro a progetti interdisciplinari tutto questo diciamo così è una questione secondo me da porre ai colleghi per vedere se questa mia percezione questa mia ipotesi possa funzionare anche nei loro paesi per spiegare una riduzione o marginalizzazione della storia italiana all'interno dell'università allora visto che siamo un po' in ritardo chiudo la parte delle domande chiedo se c'è qualcuno dei relatori che vuole rispondere yes elisabeth o chi vuole adesso ho detto due nomi dobbiamo fare una cosa un po' sintetica però venite a rispondere visto che ci sono state delle sollecitazioni importanti interessanti quindi grazie per tutte queste domande e critiche e riflessioni allora sul ruolo della storia degli storici molto è stato detto già da Fulvio Camarano adesso e quindi mi vorrei limitare a rispondere più specificamente alle domande cominciando a rispondere a Mark Lazar ah eccolo allora non faccio nome adesso però una volta un professore di storia contemporanea in Germania mi diceva se ti concentri soltanto sulla storia italiana non puoi vincere un granché beh io non mi sono concentrato soltanto sulla storia italiana ma spagnola mediterranea anche francese però adesso ad esempio ho il mio primo dottorando che si occupa di un tema esclusivamente di storia italiana e quindi lo sostengo e lo sopporto e direi come diceva anche a Morelli che dobbiamo facilitare questi desideri di inquadrarli in ambienti europei internazionali e transnazionali per rispondere a problemi come diceva giustamente Paolo Pombeni europei comuni e quindi così il caso italiano diventa un caso particolare di fenomeni più generali più ampi europei per quanto riguarda il rapporto tra la storia e le scienze sociale e politiche in Germania purtroppo non abbiamo un tipo come science po io ho studiato storia e scienza politica oppure per il dottorato ho dovuto fare scienze politiche come materia subordinata per la mia difesa della tesi e ho avuto grandi problemi di trovare un relatore del dipartimento di scienze politiche che voleva partecipare in questa procedura accademica c'è una tendenza che vale non solo per la storia e le scienze sociali e politiche in Germania ma anche per le scienze giuridiche la storia del diritto che c'è una certa incapacità di dialogare di comunicare lo vedo a volte ci sono persone individuali con cui riusciamo a capovolgere un po' questa barriera ma soprattutto per quanto riguarda la storia contemporanea più recente cioè gli anni dal 70 fino ad oggi ad esempio l'associazione di storia contemporanea italiana di lingua tedesca la grande sorella della Siscalt di cui Aprile Clemens è presidente noi includiamo anche ci teniamo i politologi quindi proviamo di lavorare insieme però non abbiamo questa lunga cultura come in Italia a volte tra le scienze politiche e la storia ma anche in Francia di creare questi ambienti interdisciplinari per quanto riguarda la culturalizzazione della storiografia una cosa che diceva Paolo Pombeni sono in parte d'accordo vedo anche questa tendenza in Germania di creare meno tipo di studi di storia ma piuttosto al tipo anglosassone di Italian Studies o qualcosa del genere quindi in cui la storia come disciplina gioca un ruolo inferiore a prima però a me preferisce sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto e quindi rimango ottimista che soprattutto se guardo il tipo di studi interdisciplinari nella nostra università in cui possiamo studiare quattro discipline allo stesso tempo la storia rimanga un punto focale per quanto riguardano le altre scienze culturali sì la storia è sempre storia recente certamente io non direi che sono i politici che rendono difficile l'ingresso di stranieri nelle accademie tedesche nelle università tedesche ma sono piuttosto alcune colleghe colleghi e dovuto all'autonomia accademica universitaria per i concorsi che si rifiutano poi di chiamare persone che non hanno fatto il percorso accademico in Germania o nel sistema germanofono perché Germania Austria e Svizzera sono abbastanza compatibili ma poi se veniamo ad altri paesi più difficili invece viceversa adesso vedo più tedeschi ad esempio in università italiane che italiani in università tedesche l'obbligo le chiamate dall'estero e tutti i vincoli di questo tipo prego Elisabeth può rimanere lì? sì ok come si accende? perfetto ha fatto molto brevemente perché ho molta voglia di sentire il keynote come molti di voi immagino io non riconosco questo quadro pessimista deprimenti che i miei colleghi hanno dipinto sì certo c'è moltissima interdisciplinarità non c'è dubbio ma questo per me è solo un punto di forza nella disciplina di storia anche quando lo poteriamo una cosa molto tradizionale e sì assolutamente negli Stati Uniti si può fare una tesi di dottorato una tesi di laurea su l'Italia appunto basta no non c'è sempre bisogno di avere un argomento una prospettiva transnazionale assolutamente no però vorrei fermarmi un attimino su ciò che è diventato un argomento molto importante nell'Accademia Americana ed è la questione di diversità di inclusività vedo di già la critica della politically correctness e beh chiedo scusa in anticipo però è questo di questo se ne parla moltissimo e le università americane si impegnano molto a riconsiderare la pedagogia pedagogia e anche la cura pastorale degli studenti universitari in modo in modo con lo scopo di aprire agli studi post grad di dottorato a studenti che fino ad ora non sono stati rappresentati e qui secondo me vediamo una cosa stupenda bellissima e non una minaccia per gli storici o per la disciplina no la disciplina non è non è fatta di dinosauri non c'è non c'è rischio di estinzione e semmai direi che invece di parlare dello svuotamento della disciplina direi che stiamo di fronte ad un enorme rinnovo espansione importante e necessario poi per la questione di Raffaella si buona domanda è il tema dell'immigrazione italiana di qualche anno fa si è trasformata adesso si parla più di studi sulla migrazione del Mediterraneo e poi gli studi sulla migrazione italiana negli Stati Uniti ormai è una disciplina in sé cioè Italian American Studies ed è lì dove si vede la maggioranza di questi lavori però bisogna dire che Italian American Studies come disciplina o subdisciplina si è un pochino distaccata dagli studi cipletamenti italianistici e dagli studi più italizionalmente storici quindi sì hai ragione c'è stata una diminuzione di interesse in questo tema come era vista in passato grazie Elisabeth chiedo a Stefan e Jonathan se vogliono intervenire prego Jonathan Stefano perfetto grazie grazie per tutte le osservazioni e le domande provo di grittami brevemente guarda io comincio con la domanda di Mark Clasard sulla possibilità di trovare un posto che è indicato un posto di storia italiano io non ho mai visto di recente un posto storia italiano in Inglaterra neanche e non credo che esista quello che vedo sono due cose che vanno da questo vedo posti che sono chiamati storie d'Europa storie moderni contemporanei eccetera sono fatte così quali sono presi da quelli che presentano delle qualifiche che non solo sono valide a livello accademico ma sono valide anche per l'insegnamento per fare tutte le altre cose che vogliono in quei posti in quelli di lei e abbiamo visto un pochino dell'evidenza nel mio discorso vanno molto bene quelli che possono offrire un approccio trasnazionale o comparativo in quanto hanno più di offrire per l'insegnamento e per cioè attrattire altri studenti a loro e questo non dico che è vero dico che è la percezione ok mi pare che questo è uno dei motivi per cui hanno fatto bene visto che l'istituto europeo ha consegnato un certo numero dei dottorati di quelli che insegnano la storia italiana in lingua terra non mi pare che è solo una questione della loro competenza accademica che non dubbio ma anche perché e quell'approccio trasnazionale comparativo era molto radicato lì hanno avuto un modo in cui quindi di entrare nel sistema vorrei però ritornare a un punto su storia europea che ha sollevato con bene nel senso in questo momento ovviamente non c'è bisogno di storici che possano dirci qualcosa sulla realtà della guerra eccetera comincio con l'osservazione che la storia europea è già in conflitto con il fatto che per anni non c'erano stati posti nella storia diciamo del terzo mondo un linguaggio che non usiamo adesso non c'erano posti per quelli che si vuole fuori europea america questo erano ben pochi e questo sta cambiando e nelle indicazioni dei posti che vedo io in giro nel mercato di storia questi sono i posti che vengono più e questi sono anche i motivi per cui ho visto ed è buono che ci sono più studi sull'esperienza coloniale d'italia in quel campo che ho presentato e che ci sono più dibattiti a proposito io non condivido quello che Paolo ha detto un po' immagino un po' per esagerare sul fatto che la culturazione l'entrato delle storie culturali ha proprio sottominiato si vuole gli altri approcci c'era un periodo dieci anni fa che avevo parole di quello in quanto c'era a quel punto un tipo di diciamo di una lotta tra i storici delle varie disciplinari che non tengono valido gli altri approcci credo che una delle cose positive che ho visto e che ho visto di più essendo nelle commissioni che fanno queste valutazioni mi interessa sapere se ha avuto la stessa esperienza Stefano è che infatti c'è adesso una comprensione che ci può essere buona ma le storie scritte in qualsiasi maniera c'è storie trasnazionali che è scarso e storie trasnazionali che è buonissimo bisogna distingere bisogna usare quelli corretti quello che vorrei concludere e prendere l'osservazione di Giulia sul fatto che abbiamo parlato anche del livello di storia di regolativo se noi lasciamo il campo a quello che sono i scrittori professionalisti se lasciamo il campo per fare l'intervento allora lo fanno e saranno di moda noi dobbiamo anche interessare a questi campi è in questo che credo che è importante che continuiamo a fare quello che si potrebbe chiamare è chiamato da noi public history di mandare e pensare come di rappresentare i risultati di studi storici che abbiamo fatto in modo che sono comprensibili e in modo che si ingaggiano con un pubblico più grande per fare e dimostrare la luce che noi come storici possiamo fare su questi eventi moderni come sono grazie grazie mille che è il professor Morris e adesso abbiamo dieci minuti di meritata pausa caffè prima della seconda e ultima sessione che sarà preseduta dal professor Cavatta grazie 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 basso destra grazie Grazie, allora buonasera a tutti, è un grande piacere che presento il collega e amico Christophe Cornelissen, direttore del suo storico germanico Fondazione Bruno Kessler di Trento e professore ordinario a Francoforte, dopo essere stato professore Achille a Düsseldorf, visiting a Praga all'Union School of Economics. Segnalo che anche co-presidente della commissione storico-ceco-slovacca-tedesca è stato per diversi anni nel senato della Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ricordo tra le sue opere l'ultima importante monografia Europa in Franzi Jahrhundert di Frankfurt Fischer 2020, poi il volume assieme a Dir von Lack che è un volume a cura di Weimar und die Welt, Globale Reflektungen der Ersten-Deutschen Republik, Göttingen van der Melke Ruppert 2020, poi con Maurizio Cao ha curato Media nei processi elettorali, modelli di esperienze tra l'età moderna e contemporanea per il mulino di Bologna sempre nel 2020, e da ultimo ma non da meno importante con Marco Mondini ha curato The Mediatization of War and Peace, The Role of the Media in Political Communication, Narratives of Public Memory, 1914-1939, per l'editore tedesco di Monaco, De Groote, nel 2021. Oggi ci parlerà di frontiere e identità e c'è da lui volentieri la parola per avviare la keynote lecture. Prego. Buonasera, grazie prima di tutto Stefano per l'invito anche a Fulvio naturalmente, per l'invito a questo convegno e anche per la presentazione della mia persona. Forse devo all'inizio spiegare il titolo della mia relazione, che forse sembra un pochino strano, perché non fa parte del convegno, non parlo dei sguardi. E' emerso, è quasi il risultato di una discussione lunga tramite Stefano e me. Hai cominciato in, mi puoi correggere forse Stefano, nel 2018, quando mi hai telefonato quando ero a Trento e mi ha detto tu devi parlare su qualcosa, io ho detto sulle frontiere, va bene. Poi nell'anno 19 abbiamo aggiunto, lui ha aggiunto l'identità, allora questo è il secondo componente della mia relazione. Nell'anno 2020, quando io stavo finendo il mio libro sull'Europa del XX secolo, io ho detto forse va bene anche aggiungere Europa nel XX secolo. E questo è il risultato che vedete davanti a voi. Allora è abbastanza arbitrario il metodo, ma succede spesso così, secondo me. Allora parlerò sulle frontiere e identità nell'Europa del XX secolo e non mi concentrerò sugli sguardi del mondo e neanche europeo. Il mio sguardo è puntato sulle storiografie europee intorno ai problemi delle frontiere, questo è il mio tema. Oggi, almeno sembra a me, i confini sono tornati ad essere al centro dell'attenzione. Già a partire dagli anni 90 la categoria spazio è stata riscoperta e rivalorizzata nelle scienze storiche e sociali. Sotto l'impulso delle crisi migratorie del XX o XX secolo, questa tendenza si è intensificata ancora una volta. Sono stati pubblicati innumeribili studi sul tema e ho fatto una piccola presentazione che non ha la stessa qualità che quelle di prima, ma per dire che la discussione è emersa negli anni 20 e nella prima decada del nostro nuovo millennio e poi si è densificato, questi sono pochi titoli scelti, fra loro, penso molto importante, The Encyclopedia of European Migration and Minorities, che è stato pubblicato anche in inglese, dopo la prima versione in tedesco. Ma chiunque parli di confini in questi giorni, in queste settimane, lo fa considerando anche la guerra in corso in Ucraina. Con l'invazione militare della Russia è avvenuta però, come nel frattempo è stato detto abbastanza spesso, una svolta, una svolta epocale, una Zeitenwende, come l'ha detto il cancelliere tedesco. Penso ci sarà ancora molto da discutere sulla qualità di questa svolta e se e da quando si può parlare di una cesura storica è ancora una domanda aperta. Permettetemi di iniziare con poche citazioni di questi giorni per arrombrare un pochino il problema. Il primo è di Vladimir Putin. Russi e ucraini sono un solo popolo perché sia i russi che gli ucraini e i bielorussi sono gli eredi della vecchia Russia, che era il più grande stato d'Europa. Così l'ha detto nell'estate del 21. L'abbiamo tutto, potete leggere, l'abbiamo fatto forse, ma non abbiamo reagito, no? Forse è falito. Un fallimento di un altro tipo. Sentiamo anche l'altra parte. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz. L'invasione della Russia e il tentativo di spostare con la forza i confini in Europa, forza anche di cancellare un intero paese della cantina del mondo. Discorso televisivo di Scholz del febbraio 22. Terzo, citazione. Non è tollerabile che in questo nuovo millennio, il Presidente italiano, qualcuno voglia comportarsi secondo criteri di potenza dei secoli passati, pretendendo che gli stati più grandi e forti abbiano il diritto di imporre le proprie scelte ai paesi più vicini. Così ha detto Mattarella nella Repubblica dell'8 marzo 22. L'ultima citazione, o forse penultima, perché ho aggiunto un altro stamattina, sono così arrabbiata con noi stessi perché abbiamo fallito storicamente. Così ha detto Annegret Kramp-Karrenbauer, l'allora ministra per la difesa della CDU e del vecchio governo. Qualche giorno fa. E stamattina si poteva leggere, o si può ancora leggere nella Frankfurter Allgemeine Zeitung, si parla di un fallimento di un'intera generazione dei politici, non solamente in Germania, ma nell'Europa. Fallimento, quello che è un punto che ha menzionato Paolo qualche minuto fa. I fallimenti sono molto in mola in questo momento. Allora, queste sono solo brevi citazioni estrapolate dal contesto in un groviglio internazionale e difficilmente penetrarli di voci. Ora, come storici e storiche, non ci viene ovviamente chiesto di raccogliere solo citazioni, non fa senso, ma piuttosto di stabilire un ordine intellettuale, di pensare sistematicamente al problema dei confini nel presente e all'allora relazione con le identità e inoltre mettere in evidenza l'uso improprio del sapere storico. Tuttavia, il compito di tenere una relazione sul tema confini e identità non è facile, come si sa, e tanti di voi lo sapete facilmente perché siete esperti come me, non solo in considerazione degli eventi e interventi politici attuali, ma anche perché è difficile liberarsi dall'impressione che il concetto di identità non sia una parola di plastica. Ed è proprio questo il termine che lo storico contemporaneo di Iena, Lutz Nithama, usava negli anni 90, esprimendo allo stesso tempo la sua stanchezza nel contesto di un nazionalismo che si stava rivitalizzando in tutta Europa in questo periodo. Ma questo discorso è poi stato sostituito, almeno nella storiografia e anche in altre discipline accademiche, da concetti alternativi sul carattere costruttivo dello spazio e la connessione che i confini sono soprattutto proiezioni immaginate del potere territoriale. Qui ricordo solamente le opere di Benedict Anderson, Ernest Gelna, Eric Hobsbawm per citare solamente tre di loro. Lo stesso vale per le importanti ipotesi di Larry Wolff e Maria Todorova sulla costruzione immaginaria di frontiere civile interne europee. Ma possiamo fermarci alle ipotesi dello spatial turn, parlando di mental maps? Penso decisamente di no. Perché nel frattempo ci troviamo ancora una volta, non solamente dopo l'inizio della guerra contro l'Ucraina. Ci troviamo in un mondo di confini fisicamente tangibili, non sono affatto solo immaginati e persino di muri di confini. Questi sviluppi sono stati ora accelerati dalla guerra nell'Ucraina, ma dobbiamo renderci conto che già dall'anno 2000, almeno 65 stati nel mondo hanno eretto nuovi muri alle loro frontiere. In Europa la lunghezza dei nuovi muri, delle recensioni di filo spinato e delle altre impianti di confine eretti si stendono oltre i corrispondenti impianti della prima guerra fredda. Volendo sintezizzare, in poche parole possiamo constatare con lo storico Paul Batts, e lo cito qui dal suo nuovo libro Ruin and Renewal, che è uscito anche in 1922, «The Democratic Revolution of 1989 has been followed by a demographic counter-revolution against the openness of 1989. For many Eastern Europeans, elitist cosmopolitan values of free movement are seen as threat, not a source of their identity. L'inizio delle nuove lotte per i confini che oggi vengono portate avanti pubblicamente e i discorsi ad essi connessi sull'identità risalgono agli anni 60, nell'Europa occidentale. Sostanzialmente parliamo qui della territorialità, e questa è l'altra citazione che ho messo sulla site di Charles S. Mayer, preso da un articolo importante dagli anni 99 su territorialità. Questo significa semplicemente i propriati, includendo il potere, provvedo dal controllo del luogo e del spazio pubblico, che inoltre recentemente crearono il framework per la identità nazionale e la identità nazionale e, inoltre, la identità etnica. Un articolo molto importante. In questo senso, i confini erano e sono tuttora estremamente importanti nella costruzione di identità nazionali lungo tutto il ventesimo e ventonesimo, possiamo aggiungere il secolo. Come si nota, si tratta certamente di un argomento molto ampio, ma mi riferisco nei prossimi 20 minuti su questi tre punti. La semantica del confine, le frontiere in movimento, e la domanda identità, anche il movimento, e terza, identità multiple, e la gerarchia delle frontiere. Passiamo prima alla semantica del confine. I confini possono indicare linee o spazi per descrivere diverse forme di territorialità. Già le differenze linguistiche fra confine, frontiere e limite sono state spesso occasioni di conflitti politici e giuridici. Ma ancora di più, i geografi, gli storici e i giuristi, con le loro ampie definizioni, le loro rappresentazioni spaziali e anche le loro narrative hanno contribuito a far sì che nel XX secolo si potesse affermare il concetto di confine, soprattutto in stretta connessione di spazi statali, nazionali, così come l'idea di Europa come potenza globale. In questo contesto abbiamo di nuovo solamente un riferimento a tre diversi libri. Il primo, uscito due anni fa, è purato tra l'altro da Paolo Pombeni, è un contributo anche da parte mia di Molino su questo problema che ho voluto presentare al convegno di 2020. Il libro è adesso uscito, così potete leggere anche parte di questa presentazione. Qualche argomenti solamente. In primo luogo il pensiero di superiorità europea. Non vi è dubbio che il pensiero geografico e storico sia stato per lungo tempo dominato da un forte eocentrismo. Già negli anni Sessanta dell'Ottocento l'influente geografo tedesco Karl Ritter dava un importante contributo a questa impostazione basata sull'idea della superiorità europea. E questo dobbiamo e troviamo rifletto nelle tutte le storiografie europee. dopo l'opera di Ritter non passa molto tempo fino a che si giunse a una alta politicizzazione della semantica tradizionale storico-culturale dei confini. Durante il Deutsches Reich uno dei più autorevoli esponenti di questa tendenza fu il geografo Friedrich Ratzel. Secondo la sua concezione di stampo darwiniano tutti gli esseri viventi sono in continua lotta per la sopravvivenza. Ratzel come anche molti altri sostenitori della geografia politica consideravano lo Stato come un organismo vivente che doveva condurre una lotta ù per assicurarsi il proprio spazio vitale. Allora l'espressione del Lebensraum lo spazio vitale deriva al contributo di Ratzel. Questo concetto può sembrare da un lato molto lontano delle nostre discussioni ma dall'altro può sembrare da un lato molto lontano delle nostre discussioni ma dall'altro il discorso attuale delle sfere di influenza in realtà rivela una certa vicinanza. Secondo argomento spesso gli europei hanno sollevato la domanda dove dovessero essere tracciati i confini esterni ed interni dell'Europa. nonostante tutti gli sforzi compiuti alla fine di stabilire criteri chiari e vincolanti per la definizione le discussioni tra geografi storici proseguirono durante tutto il ventesimo secolo. Da un lato i discorsi si basavano su concetti normativi. Dall'altro le connotazioni geografiche erano spesso cariche di nozioni culturali. I balcani ma sempre di più anche l'Europa meridionale assurcero in questo modo ha un'area di proiezione negativa e questo si può leggere per esempio in questo libro sul sud curato da Schenk e Winkler e si può leggere anche tantissimo in un fascicolo della rivista comparativa curato da Martin Baumeister Fraer Dal punto di vista orientale la stessa posizione si rifletteva nell'auto isolamento della Russia nei confronti dell'Europa che a partire dal XIX secolo individuava il proprio paese come un'unità culturale spaziale particolare. Tutte queste premesse postulavano una chiara struttura gerarchica che marcava i confini esterni e interni sulla base delle rispettive identità suggerite. La forte politicizzazione della semantica intorno ai confini dopo la prima guerra mondiale presenta un terzo punto del mio argomento. Nel periodo fra le due guerre il morfologo e solamente un esempio per tanti altri in Europa Albrecht Penck disegnava delle carte geografiche forse le conoscete anche da altre persone altre rappresentanti della disciplina geografica. immaginando un'Europa di mezzo un Zwischen Europa come si diceva in tedesco formata da bielorussi roteni polacchi e dai popoli delle province del mar baltico quale futura colonna portante degli Stati Uniti d'Europa. Lui rappresenta solamente un esempio sia della forte strumentalizzazione dell'estale esterno sia della mobilizzazione nazionale della geografia e della storiografia moderna in Germania ma anche in Italia e in altri paesi europei. Allo stesso tempo le discussioni hanno alimentato molte fantasie geopolitiche lo potete vedere a destra queste sono mappe che degli anni 20-30 spesso si poteva leggere sulle zone di influenza sulla base di queste mappe senza un chiaro disegno e a posto senza un chiaro intento per mostrare dove era pensato dove si trova il territorio. In Germania soprattutto a partire dagli anni 20 un ampio discorso sul futuro dell'Europa si è sviluppato in tutti i media dell'epoca in tutti gli strati e segmenti sociali a volte a volte con toni isterico apocalittici. Qui stiamo parlando di campi di forza correnti di forza linee di forza o più in generale onde barriere soglie eccetera. Durante la seconda guerra mondiale queste proiezioni si sono trasformate in rivendicazioni concrete di confini gli obiettivi che le potenze dell'asse si proponevano di perseguire con i loro disegni europei crebbero a dismisura fino a prefigurare scenari egomorici su scala mondiale. Dopo il 45 la semantica del confine è cambiata radicalmente in Europa. La geopolitica o geografia politica si indebolì per qualche tempo. In Germania non se ne parlava ufficialmente almeno eppure molte fantasie dei decenni precedenti continuavano a esistere nelle mappe e nelle descrizioni geografiche degli anni 50 e 60. In questo contesto è degno di nota che nell'Europa dell'Ovest dagli anni 50 furono in prima linea gli esperti dell'area della Mitteleuropa orientale a dettare le coordinate geografiche come con l'introduzione del concetto di regione storica dalle rilevanti implicazioni sull'idea dell'identità nazionale. Dal suo esilio americano questo è un protagonista in questa discussione Oscar Alecki fu soprattutto questo storico polacco a raviare questo concetto all'interno di un'importante opera di sintesi dedicata al tema con il suo modello Alecki proponeva di relativizzare le linee di demarcazione tra la Mitteleuropa orientale la Mitteleuropa occidentale e l'Europa occidentale al fine di poter considerare come un unico blocco che si opponeva all'unione sovietica era un libro molto importante è stato tradotto in tantissime lingue anche in tedesco naturalmente è stato letto molto per ragioni evidenti tutti questi discorsi cambiano notevolmente dopo il crollo del muro di Berlino e faccio qualche salto questo non vuol dire che ci segno la fine dei discorsi sull'Europa centrale o sui confini o sulle questioni di identità al contrario a seguito delle guerre jugoslave e del risorgere dei movimenti nazionali nell'Europa orientale e centro orientale le questioni di confini ricevettero una grande attenzione parallelmente a questo si sviluppò tuttavia un discorso più autoreflessivo conseguenza del spatial turn che ha esaminato i processi di reinvenzione della comunità collettiva sulla base di questi studi i dibattiti sottolineavano che gli spazi che gli spazi non esistono per sé di per sé ma vengono costruiti questa è una formula di un geografo di Berlino Hans Dietrich Schultz un argomento che ritornava principalmente a una ostrovazione del sociologo tedesco Georg Simmel già dell'anno 19 17 lo cito il confine non è un fatto spaziale con effetti sociologici piuttosto un fatto sociologico che si forma spazialmente è una tesi abbastanza interessante che ha dato nato a questa grande discussione sull'immaginario dello spazio e le conseguenze per le identità ma né Simmel né Schultz segnano con le loro tesi la fine di questi debattiti siamo ancora dentro per sottolinearlo mi sembra che oggi dobbiamo prestare più attenzione alle dimensioni giuridiche delle frontiere e al diritto di cittadinanza ad essere strettamente connesse in questo senso segnala ultimamente questo libro Staatsbürgerschaft im 19 und 20 neunate è un piccolo libro ma che prende gli argomenti di una non vecchia letteratura ma della letteratura dell'anno 90 di Roger Sprubeck di Dieter Gozovink Giulia Angster Gusi e altri che hanno introdotto questa discussione qualche anno fa sulla base delle loro ricerche si può affermare che nell'era dei moderni stati e nazioni i confini e i loro controlli forniscono una chiusura dello spazio geografico verso l'esterno e dall'altra parte forniscono una chiusura verso l'interno attraverso il codice dell'appartenenza per non dire dell'identità e questo è anche un argomento del mio libro sull'Europa del XX secolo ultimamente il sociologo Stefan Mau di Berlino ha focalizzato esattamente su questo problema in un piccolo studio che vorrei ricomandare in questo contesto sui spazi di confine che secondo lui svolgono la funzione di una macchina di selezione lui parla di una zottiermaschine una macchina di selezione in altre parole l'identità è una conseguenza delle rivendicazioni giuridiche derivanti dal diritto di cittadinanza che alle frontiere separa gli aventi diritto dai non aventi diritto è abbastanza chiaro come modello primo punto e gli altri due vengono trattati molto più con frontiere in movimento identità in movimento l'istorico polacco Christoph Pomian ha individuato nella dinamica storica delle espulsioni di massa una caratteristica distintiva dell'Europa rispetto al resto del mondo io sarei un poco più cauto si può pensare naturalmente all'India e al Pakistan ma la grande rilevanza del fenomeno per la storia europea nel lungo ventesimo secolo è evidente è anche chiaro che lo spostamento dei confini ha provocato regolarmente delle stragi osservando questi sviluppi nell'anno 1907 Lord Curson affermava che Frances lo cito are indeed the razor's edge on which are suspended the modern issues of war and peace of life or death of nations dopo la prima guerra mondiale in veste di ministro dell'estero britannico Curson svolge in diverse occasioni un ruolo di prima piano nel ridit di terminazione dei confini da lui stesso definiti come lama di rasoio Fraser's edge questa osservazione è molto importante perché tutti i grandi sviluppi della storia europea nel ventesimo secolo hanno prodotto conseguenze drammatiche per le popolazioni coinvolte guardiamo brevemente io ho pensato a 19 45 io 89 ma lascio fuori 45 così risparmiamo un po' di tempo l'anno 19 nessun momento della storia dell'Europa conferma la valità della considerazione di Pommian e Curson in modo così evidente come la fase successiva ai trattati di pace di Parigi sulla base dell'autodeterminazione nazionale i vincitori crearono una nuova Europa con 28 paesi il numero avrebbe potuto essere come sappiamo anche maggiore se fossero state accolte le aspirazioni autonomiste di altre popolazioni dei baschi dei catalani o anche dei popoli coloniali seppur ispirata al principio dell'autodeterminazione dei popoli anche la conferenza di pace di Parigi creò nuovi stati multietnici in sintesi per effetto dei trattati di pace in Parigi circa 35 milioni di persone appartenevano a gruppi di minoranza sotto un dominio staniero che in termini numerici corrispondevano alla metà di quanta aveva condiviso la stessa esperienza prima del 18 questa situazione portò lo storico britannico John Stevens già alla fine degli anni 20 a definire le regioni con forti minoranze nazionali come Danger Zones of Europe in questo contesto le zone di vaglia imperiali di Favafungszone come si dice in tedesco le zone di vaglia imperiali cioè gli spazi in cui si dovessero tracciare nuove frontiere dopo la caduta degli imperi dinastici costituirono regioni particolarmente pericolose anche se la violenza bellica a partire dal 19 non hanno raggiunto più le dimensioni della prima guerra mondiale varie forme di violenza si sopravversero da allora a tal punto che i contemporanei le vissero proprio in queste zone come una continuazione della prima guerra mondiale per contenere preventivamente i focolai nazionali di pericolo sarebbe stata necessaria una protezione totale delle minoranze o l'introduzione di strutture politiche federali almeno nelle aree con chiare maggioranze etniche ma perché proprio questo non è successo la ragione decisiva fu che l'indipendenza statale nei nuovi paesi portò a un'enfasi dell'unità della nazione e dell'intelità nazionale per integrare i territori a volte disparati i governi adottarono un rigido percorso di costruzione intera della nazione per il quale lo Stato nazionale organizzato in modo centrale sembrava offrire il quadro più efficace diventava comunque la causa principale di massicci conflitti sociali ma anche etnici all'interno dei nuovi confini che furono vigorosamente favoriti dalla forza e dall'altra parte dei confini è ben noto come per esempio il regime nazista continuò a versare olio sul fuoco a sostenere i cosiddetti tedeschi del Reich all'estero con tutti i mezzi propagandistici e materiali per creare un potenziale di disordine saltiamo a 89 91 dopo le rivoluzioni o rivoluzioni alla fine degli anni 90 e il cambiamento delle frontiere le perfezioni spaziali torneranno ancora una volta a vacillare il terzo dopo guerra per dirlo così si differenzia da quelli precedenti per quelli precedenti per l'assenza di un fenomeno di migrazione forzata rimassa quale era avvenuto sia dopo il 19 che dopo il 45 tuttavia a causa dello spostamento e della ridefinizione dei confini milioni di russi si sono trovati da allora nella situazione in cui si sentivano nativi e stranieri allo stesso tempo parliamo di circa 25 milioni russi che spesso costituiscono gli stranieri nei loro paesi di residenza dove in diversi modi fanno l'esperienza dell'emarginazione etnica e proprio qui si trova la base del discorso assordo di Putin su un genocidio etnico tuttavia dobbiamo anche riconoscere che negli ultimi trent'anni del ventesimo secolo i concetti di identità collettiva aprono innumorevoli altre dimensioni molti critici soprattutto della destra ma non solamente quelli di questa ala politica ritengono che soprattutto l'immigrazione di gruppi di popolazione musulmana costituisca una minaccia fondamentale all'identità cristiana dell'Europa già nel corso degli anni 60 i relativi slogan si sono diffusi nell'opinione pubblica soprattutto in Gran Bretagna e in Francia in modo più sempre massiccio e poi anche in altri paesi come la Germania e Italia ben conosciuto questo fenomeno a questo seguito della migrazione postcoloniale e della migrazione internazionale di forza lavoro dal sud verso il nord i movimenti popolisti hanno registrato ovunque in Europa occidentale una forte crescita tutto sommato i diversi processi migratori e la loro regolamentazione hanno portato con sé l'aumento delle frontiere interne che ha conferito una nuova importanza alle questioni di appartenenza alla comunità etniche sociali e confessionali e qui ho raggiunto il terzo e l'ultimo punto identità multiple e la gerarchia delle frontiere in Europa sono soprattutto le regioni di confine con i loro processi di differenziazione etnica ad aver attirato di continuo l'interesse della ricerca storica in Germania l'istituto Herda a Marburg vi do di nuovo solamente qualche esempio delle pubblicazioni di questo istituto ma anche ben conosciuto come istituto specialistico per la storia dell'Europa del mito dell'Europa per dirlo così dell'Est ma anche altri gruppi numerosi gruppi di ricerca come quelli per esempio guidati da Etienne François in Germania che dagli anni 2000 hanno dedicato particolare attenzione alle regioni di confine franco-tedesche per esempio e tedesche polache così è diventato chiaro che soprattutto le regioni di confine sono state campi di formazione e sperimentazione per varie forme di reinvenzione moderna della comunità nazionale così si può leggere nel libro di Petri e Müller che tratta anche l'esempio dell'Alto Adige questi studi hanno cambiato significativamente la visione dei confine la comprensione dei confini degli spazi di confine e dei regimi di confine ironicamente sembra a me almeno gli spazi di confine una volta erano considerati zona di pericolo ho citato Stevens danger zones o addirittura terre di sangue la famosa tesi di Timothy Snyder adesso si sono trasformati sotto l'influsso di questa letteratura nel frattempo in zone di comprensione interculturale almeno nella semantica su queste regioni colpisce inoltre l'evoluzione del topo del ritorno verso l'Europa in una tendenza a reinventare un multiculturalismo passato per esempio quando si legge qualcosa sulla città di Cernovitz come il nuovo Gerusalemme dell'Europa aspettiamo ancora ovviamente però questo non è un quadro completo ciò è indicato non solo dalle sfide esistenziali a seguito del ritorno della guerra e quindi della difficoltà di attraversare i confini nel presente ma anche dai conflitti sulle discriminazioni politiche e sociali che ormai si combattono apertamente ovunque lasciatemi citare ancora una volta Simmel che a me sembra sempre un gran aiuto il famoso sociologo tedesco questo è un altro citato di un testo del 1903 ovunque gli interessi di due elementi si rivolgono allo stesso oggetto la possibilità della loro coesistenza dipende dal fatto che una linea di confine all'interno dell'oggetto separi le loro sfere che sia questa come confine giuridico la fine della disputa o come fine di potere forse il suo inizio in altre parole i confini discriminano descrivono sfere giuridiche politiche e culturali ognuna delle quali comporta gerarchie diverse se prendiamo in considerazione queste convenzioni argomenti diventa più chiaro in quale misura decisiva i confini abbiano creato nel passato ma anche nel presente una forte discriminazione tra gli aventi diritto e i non aventi diritto il ritorno a questo argomento non si tratta assolutamente solo di confini statali ma anche di confini tra i sessi di confini basati sulla disabilità di confini tra nativi e emigrati di confini tra cristiani e musulmani di confini tra persone di colore della pelle diverse attualmente soprattutto nelle società post-imperiali dell'Europa ci sono feroci conflitti sul razzismo in tutte queste controverse i confini e le identità giocano un ruolo cruciale il che solleva le sfide di riconoscere le gerarchie storiche e attuali dei confini lasciatemi citare un ultimo esempio per mostrare la validità dell'argomento tuttavia non bisogna trascurare il fatto che le identità nazionali in Europa continuano a rivendicare una prerogativa per mostrare questo fatto si possono citare ultimamente le esperienze durante la pandemia attuale e per questo vi riferisco a questo bel volume che sottolineatamente è solamente uscito in tedesco ma è una delle prime prove di fare una sintesi una storia scrive una storia sociale delle nostre esperienze attuali da un collega di Münster dal 2020 lui scrive la solidarietà internazionale e gli interessi nazionali sono più vicini che mai ma noi non possiamo negare la gara nazionale per i vaccini con tutta la sua drammaticità essa ha sollevato la questione fondamentale di poter garantire i mezzi di sussistenza individuale e collettiva e ha anche messo in evidenza l'importanza dei confini tra chi ha diritto e chi non ha diritto ai vaccini mi devo fermare con queste considerazioni i confini creano identità spaziali di diversi tipi in questo contesto la nascita e l'attuazione della moderna legislazione in materia di cittadinanza ha svolto un ruolo essenziale e questo si può leggere già dagli anni 90 nei famosi opere di Brubakers e tutti gli altri ma adesso li dobbiamo rileggere secondo me in materia di cittadinanza che ha svolto un ruolo essenziale e non solo come conseguenza del trionfo dell'idea della nazione la gerarchia con lo stato nazionale al vertice non appare solo ai confini e nelle ragioni di confine ma qui è particolarmente visibile questa esperienza costituisce il momento essenziale dell'identità europea durante il lungo ventesimo secolo e questo fa parte del mio piccolo libro e l'ho provato a ridimensionare in 20-25 minuti grazie per la vostra attenzione grazie Cristof io credo che ci siano pochi minuti ma po' qualche minuto per fare le domande lo abbiamo quindi inviterei il pubblico a prendere il coraggio e a salire sul podio forse mi non è il coraggio ma è la forza la forza la sera di fronte a temi così grandi e anche la cena l'altro e anche la cena la cena è prossima quindi è vero però non volevo allora certamente il tema dell'identità ha accompagnato per lungo tempo il dibattito storiografico e negli ultimi tempi alcune correnti hanno diciamo ripreso il carattere finzionale diciamo così dell'identità riprendendo la linea segnata da Henderson e da Gellner ma in qualche modo accentuando in un dibattito mi è capitato di sentire una collega che mi diceva che in realtà l'interno esiste ma si può parlare solo di rappresentazioni e di memoria allora è chiaro che la domanda che ti faccio è possiamo dire che questa cosa è vera o possiamo invece dire che l'identità benché sia inventata ha un suo fondamento oggettivo io naturalmente penso che i fenomeni di National Tradition abbiano la loro realtà nella misura in cui le persone credono a questi elementi e la seconda domanda è se nell'identità il tema delle lealtà primordiali che è la traduzione di una frase di Clifford Gertz che fa riferimento a degli elementi di base dell'interazione tra le comunità locali la lingua le parentele giochino un ruolo nel cementare l'identità che poi vengono ridefinite dai confini statuali queste sono un po' le due domande che vorrebbero essere un po' provocativo o provocatore io non li vedo come domande provocatorie sono quasi un riassunto della complessità del problema che hai ripreso per fare chiaro che tutti noi o tanti di noi che sono in questa sala abbiamo approfittato della letteratura dell'idea della immaginazione della nazione questa era una tesi importantissima è rimasta importantissima e il fatto che non possiamo fare una differenza tra la realtà dell'identità e la parte immaginata questo fa parte già del problema di descrivere il fenomeno e il mio argomento non era di fare questa netta differenza fra realtà e l'idea della nazione ma per dire che non possiamo fermare al punto dove abbiamo forse lasciato la discussione alla fine degli anni 90 con gli impulsi di Henderson e tutti gli altri nel senso che tutto questo anche sotto l'influsso di Schengen della nostra vita quotidiana che ha permesso a noi almeno qui in Europa di viaggiare dove abbiamo voluto senza sentire più questa aderenza ad una certa nazione a parte del fatto della lingua questo è forse per me stato il punto per riaprire questa discussione e questo è il mio motivo di indicare che a parte del fatto che questo è un complesso difficile da distinguere fra realtà e il mondo immaginato che alla fine dobbiamo tornare ad una discussione che forse Paolo voleva indicare con la sua piccola polemica sui problemi importanti dobbiamo parlare e discutere sul problema della cittadinanza nel mondo attuale e che cosa significa esattamente per i profughi e per quelli che sono appartenenti di una nazione di un stato nazionale questo è il mio motivo e ho provato di mostrare come questo si è sviluppato durante i diversi fasi del ventesimo secolo in qualche pezzo indicato solamente stasera sentiamo qualche altra no io volevo sì era una cosa secca no va bene e così sento anche sì no la domanda era molto secca quando si è cominciato a parlare della crisi o dell'indebolimento dello Stato nazionale ecco questo tema rispetto alla percezione del confine perché mi è sembrato diciamo che da una parte si pensa in termini di crisi o si è pensato in termini di crisi dello Stato nazionale ma non è mai venuto meno però l'immagine il concetto la forza del confine e allora questi due aspetti come sono stati insieme perché a me sembra che qui è il punto delicato adesso siamo in una fase in cui lo Stato nazionale riprende forza e la riperde a secondo degli eventi ma nessuno parla mai in termini di confine da questo tema allora era una domanda così probabilmente senza risposta ma è una curiosità perché non riusciamo a separare lo Stato il concetto di Stato in cui noi come dire siamo cresciuti dalla rivoluzione francese in poi e siamo dentro lo Stato nazione da quello di confine allora mi chiedo se questa è un'operazione possibile intanto culturalmente poi politicamente si vedrà ci sono diverse risposte a questa importante domanda da un lato penso che io ho segnalato da un lato questo campo di Anderson e di altri che ci hanno dato l'idea di pensare sull'immaginario della nazione moderna le nazioni moderne dall'altro abbiamo approfittato questa era la domanda di Marc Lazan qualche minuto fa come storici dai sociologi sociologi tantissimo da Michael Mann e tutti gli altri che hanno mostrato o hanno voluto mostrare la perdita quasi della moderna nazionale e anche dello Stato nazionale the nation state is that era la formula alla quale mi ricordo che mi sembrava sempre un pochino problematico e per questo penso che adesso sotto l'influsso delle nostre esperienze attuali forse vale la pena di ritornare a questi dibattiti di metterli insieme e di provare di sviluppare nuovi concetti che permettono più di capire che cosa è questa promessa dello Stato nazionale i giuridici parlano della grande promessa la promessa di sicurezza la promessa di sicurezza che è quasi che è aumentato durante il ventesimo secolo e continua a aumentare sicurezza all'inizio solamente nel senso che lo Stato ha dato o garantito le frontiere e ha dato forse qualche offerta per scolarizzare gli allievi e poi nel ventesimo secolo ha aggiunto il welfare state ha aggiunto altri campi come per esempio la sicurezza contro il terrorismo e adesso sta assicurando anche le nostre domande sul campo del per esempio fra tanti altri dell'ambiente allora noi aspettiamo dallo Stato una risposta chiara questa è la grande promessa di oggi e discutere questi problemi e la permanente estensione di queste promesse della modernità dello Stato of the modernation state questo può essere un dibattito centrale secondo me e rimanerà con noi in considerazione del fatto che adesso facciamo tutta l'esperienza che questo Stato è anche ritornato come Stato che ha iniziato una guerra di un tipo come dice il vostro presidente il nostro cancelliere che appartiene ad un'altra epoca storica sembra di no e per questo penso che ritornare a questi dibattiti ma trasformarli in un modo moderno è il compito per tantissimi tantissimi che sono in questa sala grazie della relazione avevo una curiosità che mi è venuta poi soprattutto quando proiettava la situazione da Charles Mayer rispetto alla diciamo territorio territorialità eccetera cioè se come dire parte che sono assolutamente condivido quanto lei dice sul fatto che come dire la famola fecchia formula lo Stato Nazione è morto non funziona più di tanto ma anche prima della guerra insomma evidentemente non funzionava più di tanto però ecco quello che volevo chiederle è se come dire concetti di territorialità hanno ancora una valenza e se ci sono anche come dire altri attori al di là dello Stato che partecipano per così dire nel produrre territorialità territorio faccio un esempio in queste settimane si è parlato di gasdotti Nord Stream insomma anche quello sono in fondo produzioni di territorio oltre le frontiere oltre i confini e quindi però fatte da attori che non sono statali ma da attori in qualche modo anche economici naturalmente che superano le frontiere ecco come diciamo la questione del territorio e quella delle frontiere in una fase in cui lo Stato c'è ancora però le frontiere ogni tanto traballano ecco come si possono intrecciare ecco questa domanda territoriality o territorialità è un concetto di nuovo che forse finisce alla frontiera forse no e per questo dobbiamo guardare ad esempio particolari e specifici per definire per esempio se vogliamo indagare i progetti internazionali sul mercato dell'energia che ha provocato e anche fatto emergere questa grande illusione che quando facciamo questa che noi perdiamo il senso della territorialità scusate ho qualche problema di ripetere questa parola a quest'ora almeno in un modo che questo cambia quasi tutto l'idea di appartenenza ad una nazione questa è la grande illusione di tantissimi europei negli ultimi decenni e per questo di nuovo io ritornerei all'appello quasi di lanciare progetti del tipo per far capire che territoriality evidentemente è un concetto complesso che deve integrare questi aspetti a cui riferisce le quali riferisce economic experts la scuola la cultura in generale ma anche forse il campo dello sport e qualsiasi altro campo ma dobbiamo sempre raggiungere questo con la mia promessa chi può dare chi dà la promessa della sicurezza entro questo territorio specifico e garantisce il periodo della pace per proseguire secondo il piano e questo mi sembra c'era un collega tedesca che ha detto una volta ci sono questioni esistenziali e di lusso e forse dobbiamo fare un piccolo cambiamento secondo l'argomento anche l'appello di Paolo verso gli argomenti dell'esistenza e non solamente del lusso possiamo e dobbiamo integrare quello di lusso per capire meglio perché la gente immagina o preferisce anche altre soluzioni ma dobbiamo sempre ritornare e collogare queste domande per esempio sul mercato delle energie o altri con questi problemi esistenziali intorno ai confini nazionali se non lo facciamo perdiamo un pochino di senso della territorialità ci sono altre questioni altre sollecitazioni allora se non ci sono altre questioni possiamo prima di però chiudere ricordo che domani il convegno prosegue al Disci nell'aula Prodi a partire dalle nove sarà sempre in streaming quindi in un'altra parte dell'Università di Bologna presso il Dipartimento di Storia Cultura e Civiltà in Piazza San Giovanni in Monte e quindi ci vediamo domani tendenzialmente alle nove per poter partire tendenzialmente vorrei tendenzialmente mi pregherei di essere puntuali per poter partire con il convegno in tempo va bene ringraziamo Cristo Cronelli sempre questa stimolazione grazie 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 Grazie. Grazie.